Di Albert Camus, La peste, voce di Lorenzo Pieri, capitolo secondo, prima parte. Da questo momento si può dire che la peste ci riguardò tutti. Finora, nonostante la sorpresa e la preoccupazione suscitate da questi eventi straordinari, ognuno dei nostri concittadini aveva continuato come poteva a dedicarsi alle proprie occupazioni, al proprio posto, e così doveva senz'altro essere in seguito. Ma dopo che furono chiuse le porte, tutti si accorsero, compreso il narratore, di essere sulla stessa barca e di doversene fare una ragione. Così, per esempio, un sentimento privato, quale la separazione da una persona amata, divenne improvvisamente, sin dalle prime settimane, quello di un'intera popolazione e, insieme con la paura, il principale motivo di sofferenza di quel lungo periodo di esilio. Una delle conseguenze più vistose della chiusura delle porte fu, infatti, l'improvvisa separazione in cui si ritrovarono persone che a questo non erano preparate, madri e figli, coniugi, amanti che qualche giorno prima avevano creduto di dover affrontare una separazione temporanea, che si erano salutati ai binari della nostra stazione con due o tre raccomandazioni sicuri di rivedersi dopo qualche giorno o qualche settimana, cullati dall'assurda fiducia umana, a malapena distratti con quella partenza dalle preoccupazioni abituali. Si videro d'un tratto inesorabilmente lontani, impossibilitati a ricongiungersi o a comunicare. La chiusura era infatti avvenuta qualche ora prima che il provvedimento prefettizio fosse reso pubblico ed era naturalmente impossibile prendere in considerazione i casi particolari. Si può dire che il primo effetto di questa brusca irruzione della malattia fu di obbligare i nostri concittadini ad agire come se non avessero sentimenti individuali. Sin dalle prime ore del giorno in cui l'ordinanza entrò in vigore, la prefettura fu assalita da una folla di persone che al telefono o al cospetto dei funzionari esponevano situazioni ugualmente interessanti e insieme ugualmente impossibili da esaminare. In verità ci vollero parecchi giorni perché ci rendessimo conto di trovarci in una situazione in cui qualunque compromesso era impossibile e che le parole transigere, favore, eccezione non avevano più alcun senso. Anche la modesta soddisfazione di scrivere ci fu negata. Non solo, infatti, la città non era più collegata al resto del paese dai consueti mezzi di comunicazione, ma in più una nuova ordinanza proibì qualunque scambio di corrispondenza per evitare che le lettere diventassero possibili veicoli di contagio. All'inizio alcuni fortunati riuscirono ad avere degli abboccamenti con alcune sentinelle di guardie alle porte della città che accettarono di far passare dei messaggi all'esterno. Ciò accadeva nei primi giorni dell'epidemia quando le guardie trovavano naturale cedere ad un moto di compassione. Ma dopo qualche tempo, quando si furono rese conto della gravità della situazione, le guardie stesse si rifiutarono di assumersi responsabilità di cui non potevano prevedere le conseguenze. Le comunicazioni telefoniche interurbane dapprima autorizzate provocarono un tale affollamento alle cabine pubbliche e sulle linee che per qualche giorno furono sospese del tutto, quindi strettamente limitate ai cosiddetti casi urgenti quali morte, nascita e matrimonio. I telegrammi rimasero allora l'unica risorsa. Persone legate dall'intelligenza, dal cuore e dalla carne furono così ridotte a cercare i segni dell'antica comunione nelle maiuscole di un dispaccio di dieci parole. E poiché, di fatto, le espressioni adatte a un telegramma sono alquanto limitate, lunghe vite in comune o passioni dolorose si condensarono ben presto in un periodico scambio di frasi stereotipate. Tutto bene, ti penso, con affetto. Alcuni di noi, tuttavia, si ostinavano a scrivere e non cessavano di immaginare soluzioni per comunicare con l'esterno che alla fine si rivelavano puntualmente illusorie. Quando anche qualche stratagemma da noi ideato avesse funzionato, non potevamo saperlo, poiché non ricevevamo risposta. Per settimane ci riducemmo così a riscrivere sempre la stessa lettera, a ricopiare gli stessi appelli, tanto che dopo qualche tempo le parole che all'inizio ci erano uscite sanguinanti dal cuore avevano perso ormai tutto il loro significato. Allora le ricopiavamo meccanicamente, tentando di dare con quelle frasi morte qualche segno della nostra vita difficile. Finché a quel monologo sterile e ostinato, a quella conversazione arida con un muro, ci sembrava preferibile il messaggio convenzionale del telegramma. Di lì a qualche giorno, però, quando fu ormai evidente che nessuno sarebbe potuto uscire dalla città, pensammo di chiedere se coloro che erano partiti prima dell'epidemia potessero essere autorizzati a tornare. Dopo qualche giorno di riflessione, la prefettura rispose in modo affermativo. Precisò, però, che i rimpatriati non avrebbero potuto in alcun caso uscire di nuovo dalla città e che se erano liberi di tornare non lo sarebbero stati di ripartire. Anche in questo frangente vi furono famiglie, poche peraltro, che presero la situazione alla leggera e, anteponendo alla prudenza il desiderio che provavano di rivedere i loro cari, invitarono questi ultimi ad approfittarne. Ma molto presto, coloro che erano prigionieri della peste, si resero conto del pericolo cui esponevano i familiari e si rassegnarono a patire la separazione. All'apice della malattia vi fu soltanto un caso in cui i sentimenti umani furono più forti della paura di una morte orribile. Non furono come ci si poteva aspettare due amanti spinti uno verso l'altro da un amore più forte della sofferenza. si trattava soltanto del vecchio dottor Castel e della moglie, sposati ormai da molti anni. Qualche giorno prima dell'epidemia la signora Castel si era recata in una città vicina. I due non erano neppure una di quelle coppie che agli occhi del mondo sono il modello di una felicità esemplare e il narratore può affermare che forse, fino a quel momento, i due coniugi non erano nemmeno sicuri di essere soddisfatti della loro unione. Ma quella separazione brutale e prolungata li aveva messi nella condizione di scoprire che non potevano vivere lontani l'uno dall'altra e che di fronte a questa verità improvvisamente lampante la peste era ben poca cosa. Si trattava di un'eccezione. Nella maggioranza dei casi, era evidente, la separazione doveva terminare solo con la fine dell'epidemia. E per tutti noi il sentimento principale della nostra vita, che pure credevamo di conoscere bene, gli abitanti di Orano, l'abbiamo detto, hanno passioni semplici, assumeva un volto nuovo. Mariti e amanti, che avevano la più completa fiducia nella compagna, si scoprivano gelosi. Uomini, che si credevano superficiali in amore, riscoprivano la fedeltà. Figli, che avevano vissuto accanto alla madre, guardandola a stento, ora mettevano tutta la loro inquietudine e il loro impianto in una piega del suo viso, di cui li tormentava il ricordo. Quella separazione brutale, senza appello, senza un avvenire prevedibile, ci lasciava sconcertati, incapaci di reagire di fronte al ricordo della presenza ancora così vicina e già così lontana che ora occupava le nostre giornate. In realtà, soffrivamo due volte della nostra sofferenza e poi di quella che immaginavamo negli assenti, figli, moglie o amante. In circostanze diverse, forse i nostri concittadini avrebbero trovato una via di fuga in una vita più esteriore e più attiva, ma la peste, frattanto, li impigriva, e si riducevano a girare a vuoto nella loro città smorta, giorno dopo giorno, in balia degli scherzi illusori del ricordo, giacché nelle loro passeggiate senza meta erano indotti a percorrere sempre gli stessi tragitti e il più delle volte, in una città tanto piccola, questi tragitti erano proprio quelli che in un'altra epoca avevano percorso con l'assente. Perciò, la prima cosa che la peste portò ai nostri concittadini fu l'esilio. E il narratore sa di poter scrivere qui, a nome di tutti, ciò che lui stesso ha provato allora, poiché l'ha provato contemporaneamente a molti nostri concittadini. Sì, era proprio il sentimento dell'esilio, il vuoto che sentivamo sempre dentro di noi, l'emozione precisa, il desiderio irragionevole di tornare indietro o invece di affrettare la corsa del tempo, i morsi brucianti della memoria. Se talora ci abbandonavamo all'immaginazione e ci lasciavamo andare aspettando lo squillo di campanello del ritorno o un passo familiare sulle scale, se in quei momenti accettavamo di dimenticare che i treni erano fermi, se facevamo in modo di restare a casa all'ora in cui un viaggiatore giunto con l'espresso della sera poteva arrivare nel nostro quartiere, questi giochetti, va da sé, non potevano durare. Veniva sempre il momento in cui ci rendevamo conto che i treni non arrivavano. Sapevamo allora che la nostra separazione era destinata a durare e che dovevamo imparare a scendere a patti con il tempo. Da quel momento ritrovavamo, insomma, la nostra condizione di prigionieri, confinati nel passato e seppure alcuni di noi avevano la tentazione di vivere nel futuro, ben presto vi rinunciavano per quanto era loro possibile, provando le ferite che l'immaginazione poi infligge a coloro che di essa si fidano. Capitolo secondo. Seconda parte. In particolare, tutti i nostri concittadini abbandonarono subito, anche in pubblico, l'abitudine che sovente avevano preso di calcolare la durata della loro separazione. Accadeva, infatti, che quando i più pessimisti l'avevano stabilita, poniamo, di sei mesi, quando avevano vissuto in anticipo tutta l'amarezza di quei mesi a venire, innalzato con fatica tutto il loro coraggio all'altezza di quella prova, raccolto le ultime forze per resistere impassibili al cospetto di quella sofferenza protratta per una serie così lunga di giorni. Improvvisamente un amico incontrato per caso, una notizia su un giornale, una fuggevole intuizione o una subitanea consapevolezza, dava loro l'idea che, in fondo, non c'era motivo per cui la malattia non dovesse durare più di sei mesi e forse un anno o anche più. A quel punto coraggio, volontà e pazienza crollavano in modo talmente rovinoso da dar loro l'impressione che non sarebbero mai più riusciti a risalire da quella voragine. Si imponevano allora di non pensare più alla data della liberazione, di non volgersi mai più verso il futuro e di tenere, per così dire, gli occhi bassi. Ma quella circospezione, quella tendenza a giocare d'astuzia con il dolore, a chiudere la guardia per sottrarsi al combattimento, erano mal ripagate. Se così, infatti, riuscivano ad evitare il crollo che non volevano a nessun costo, si privavano però dei momenti tutto sommato piuttosto numerosi, in cui potevano dimenticare la peste nelle immagini del ricongiungimento futuro. Perciò, incagliati a mezza via tra quegli abissi e quelle vette, più che vivere galleggiavano in balia di giorni senza direzione e di ricordi sterili, ombre erranti che avrebbero trovato forza solo accettando di radicarsi nella terra del loro dolore. Provavano così la sofferenza profonda di tutti i prigionieri e di tutti gli esuli, che è quella di vivere con una memoria che non serve a niente. Persino il passato a cui pensavano in continuazione aveva solo il sapore del rimpianto. Avrebbero voluto, infatti, potergli aggiungere tutto ciò che si rammaricavano di non aver fatto quando ancora era possibile con colui o colei che aspettavano, così come a tutte le circostanze, anche relativamente felici della loro vita di prigionieri, rendevano partecipe l'assente e ciò che erano allora non poteva bastargli. Insofferenti al presente, nemici del passato e privi di futuro, eravamo come quelli che la giustizia o l'odio umani fanno vivere dietro le sbarre. Per finire, l'unico modo per sottrarsi a quella vacanza insopportabile era far ripartire i treni con l'immaginazione e riempire le ore con gli squilli ripetuti di un campanello, pur ostinatamente silenzioso. Ma se di esilio si trattava, era quasi sempre un esilio a casa propria. E benché il narratore abbia vissuto solo l'esilio di tutti, non deve però dimenticare quelli come il giornalista Rambert o altri, viaggiatori sorpresi dalla peste e bloccati in città, per i quali le pene della separazione furono amplificate dal fatto di ritrovarsi lontani tanto dalla persona con cui non potevano ricongiungersi, quanto dal loro paese. Nell'esilio generale erano i più esiliati, poiché se il tempo suscitava in loro, come in chiunque, l'angoscia che gli è propria, costoro erano legati anche allo spazio e si scontravano di continuo con i muri che separavano quel rifugio appestato dalla patria perduta. Erano loro, probabilmente, che vedevamo vagare a ogni ora del giorno nella città polverosa, intenti a rievocare in silenzio certe sere che erano i soli a conoscere e i mattini del loro paese. Nutrivano così il loro dolore di segni imponderabili e di messaggi sconcertanti come un volo di rondini, la rugiada del tramonto o gli strani raggi che a volte il sole lascia nelle vie deserte. Davanti al mondo esterno, che può sempre salvare da tutto, loro chiudevano gli occhi, ostinati come erano a coltivare le loro chimere troppo reali e a inseguire con ogni forza le immagini di una terra dove una certa luce, due o tre colline, l'albero preferito e alcuni volti di donne, componevano un'atmosfera per loro insostituibile. Venendo infine più espressamente agli amanti, che sono i più interessanti e di cui forse il narratore può parlare con cognizione di causa, costoro erano tormentati da ulteriori motivi di angoscia, fra cui occorre menzionare il rimorso. La situazione, infatti, permetteva loro di considerare i propri sentimenti con una specie di febbrile obiettività e in quei casi era raro che non emergessero nitidamente le loro mancanze. La prima occasione era offerta dalla difficoltà che avevano a immaginare con esattezza la vita quotidiana dell'assente. Si rammaricavano allora di essere del tutto ignari delle sue occupazioni, si accusavano della leggerezza con cui avevano tralasciato di informarsene e finto di credere che le occupazioni dell'amato non sono la fonte di ogni gioia per colui che ama. Da lì era facile allora ripercorrere il loro amore ed esaminarne le pecche. In tempi normali sapevamo tutti, più o meno consapevolmente, che non c'è amore che non possa migliorarsi e tuttavia accettavamo in maniera più o meno pacifica che il nostro restasse mediocre. Ma il ricordo è più esigente e ne conseguiva che quella tragedia venuta dall'esterno e che colpiva un'intera città non ci recava soltanto una sofferenza ingiusta di cui avremmo potuto indignarci. Ci induceva anche a infliggerci personalmente un'ulteriore sofferenza e ci faceva così a consentire al dolore. Era uno dei modi con cui la malattia distoglieva l'attenzione e confondeva le carte. Perciò ciascuno dovette accettare di vivere alla giornata e solo di fronte al cielo. Questa diserzione generale poteva alla lunga temprare i caratteri ma sulle prime li rese vulnerabili. Alcuni nostri concittadini per esempio erano soggetti a un'altra schiavitù che li metteva in balia del sole e della pioggia. A vederli sembrava che ricevessero per la prima volta in maniera diretta l'impressione del tempo che faceva. Bastava una luce dorata a dar loro un'espressione felice mentre i giorni di pioggia mettevano un velo pesante sui loro volti e sui loro pensieri. Qualche settimana prima scampavano a una tale fragilità e a una schiavitù tanto irragionevole perché non erano soli di fronte al mondo e in un certo senso la persona che avevano accanto si frapponeva tra loro e l'universo. Da quel momento invece furono visibilmente in balia dei capricci del cielo cioè soffrirono e sperarono senza ragione. In tali estremi della solitudine infine nessuno poteva sperare nell'aiuto altrui e ciascuno restava solo con la propria inquietudine. Se uno di noi provava per caso a confidarsi o a dire qualcosa del proprio stato d'animo il più delle volte la risposta che riceveva quale che fosse lo feriva. Si accorgeva allora che lui e il suo interlocutore non parlavano della stessa cosa. Ciò che lui esprimeva scaturiva infatti da lunghe giornate di rimugini e di sofferenze e l'immagine che intendeva comunicare aveva covato a lungo al fuoco dell'attesa e della passione. L'altro invece si figurava un'emozione convenzionale il dolore smerciato in piazza una malinconia fatta in serie. Che fosse benevola o ostile la risposta era sempre inadeguata tanto valeva rinunciare. Ma poiché gli interlocutori non sapevano trovare il vero linguaggio del cuore coloro per i quali il silenzio era insopportabile si rassegnavano ad adottare la lingua della piazza e a parlare anch'essi nel modo convenzionale quello dell'esposizione dei fatti e dell'articolo di cronaca in un certo senso del resoconto quotidiano. Anche in quel caso i dolori più autentici presero a tradursi in banali formule di conversazione. Era il prezzo pagato dai prigionieri della peste per ottenere la compassione del portinaio o l'interesse di chi li ascoltava. Tuttavia, ed è questa la cosa più importante, per quanto dolorose fossero queste angosce, per quanto pesante da portare fosse quel cuore pur vuoto, possiamo ben dire che nel primo periodo della peste, quegli esiliati furono dei privilegiati. Proprio quando la popolazione cominciava ad essere spaventata, infatti, i loro pensieri erano tutti rivolti alla persona che aspettavano. Nella disperazione generale l'egoismo dell'amore li preservava e se pensavano alla peste era sempre e solo perché essa dava alla loro separazione il rischio di protrarsi in eterno. Recavano così nel cuore stesso dell'epidemia una distrazione salutare che si era inclini a scambiare per sangue freddo. La disperazione li salvava dal panico, la loro tragedia aveva un risvolto positivo. Se, per esempio, uno di loro era stroncato dalla malattia, ciò accadeva quasi sempre senza che avesse potuto prestarvi troppa attenzione. Strappato al lungo dialogo interiore che aveva con un'ombra, era gettato senza transizione nel silenzio più fitto della terra. Non aveva avuto il tempo di accorgersene. Capitolo secondo, terza parte. Mentre i nostri concittadini cercavano di abituarsi a quel subitaneo esilio, la peste metteva guardie alle porte e deviava le navi che facevano rotta su orano. Dopo la chiusura nessun veicolo era più entrato in città. Si aveva l'impressione da quel giorno che le auto girassero in tondo. Anche il porto, per coloro che lo guardavano dall'alto dei boulevard, presentava un aspetto singolare. La consueta animazione che ne faceva uno dei porti più importanti della costa si era bruscamente interrotta. Si vedeva ancora qualche nave tenuta in quarantena. Ma sui moli, alte grue in disarmo, i vagoncini rovesciati sul fianco, pile solitarie di fusti o di sacchi, testimoniavano che anche il commercio era morto di peste. Nonostante questi spettacoli insoliti sembrava che i nostri concittadini avessero difficoltà a capire ciò che stava accadendo loro. C'erano sentimenti condivisi come la separazione o la paura, ma tutti continuavano a mettere in primo piano anche le preoccupazioni personali. Nessuno aveva ancora davvero accettato la malattia. Quasi tutti erano in primo luogo sensibili a ciò che interferiva con le loro abitudini o toccava i loro interessi. Ne provavano fastidio o irritazione e non sono questi sentimenti che è possibile contrapporre alla peste. La loro prima reazione, per esempio, fu di prendersela con la pubblica amministrazione. La risposta del prefetto alle critiche riprese dalla stampa non si potrebbe prevedere un alleggerimento delle misure adottate, fu alquanto in attesa. Finora né i giornali né l'agenzia Infsdoc avevano ricevuto una comunicazione ufficiale con le statistiche della malattia. Il prefetto le trasmise giorno dopo giorno all'agenzia, pregandola di farne un comunicato settimanale. Anche in questo caso, però, la reazione dell'opinione pubblica non fu immediata. L'annuncio che nella terza settimana di peste si erano contati 302 morti. Rimaneva infatti qualcosa di astratto. In primo luogo, forse non tutti erano morti di peste. E in secondo luogo, nessuno sapeva quante persone morissero alla settimana in tempi normali. La città contava 200.000 abitanti. Nessuno aveva idea se quella percentuale di decessi fosse nella media. Si tratta anzi del genere di dettagli di cui non ci si cura mai, nonostante l'indubbio interesse che presentano. In un certo senso, all'opinione pubblica, mancavano i termini di paragone. Solo con il passare del tempo, constatando l'aumento dei decessi, ci si rese conto della verità. La quinta settimana si ebbero infatti 321 morti e la sesta 345. L'incremento, se non altro, era eloquente. Ma non era abbastanza elevato perché i nostri concittadini non serbassero, pur nell'inquietudine, l'impressione che si trattasse di un incidente, certo increscioso, ma tutto sommato temporaneo. Continuavano così a girare per le strade e a sedersi ai tavolini dei caffè. Nel complesso non erano spaventati, si scambiavano più battute che lamentele e sembravano accettare di buon grado certi inconvenienti, evidentemente passeggeri. Le apparenze erano salve. Verso la fine del mese, però, e su per giù durante la settimana di preghiere di cui sarà questione più avanti, alcuni cambiamenti più seri modificarono l'aspetto della nostra città. Il prefetto prese innanzitutto alcune misure riguardo la circolazione dei veicoli e gli approvvigionamenti. Gli approvvigionamenti furono limitati e la benzina razionata. Fu inoltre imposto un risparmio di energia elettrica. Solo i prodotti di prima necessità giunsero a Orano via terra e per via aerea. Si vide così una progressiva diminuzione del traffico, che divenne pressoché inesistente, e si videro negozi di lusso chiudere dall'oggi al domani e altri appendere in vetrina cartelli negativi, mentre file di clienti stazionavano davanti alla porta. Orano prese così un aspetto singolare. Non solo aumentò sensibilmente il numero di coloro che andavano a piedi, ma nelle ore morte le strade e i caffè si riempivano delle tante persone ridotte all'inattività, dalla chiusura dei negozi o di alcuni uffici. Per il momento costoro non erano ancora disoccupati, bensì in ferie. Orano dava allora, per esempio verso le tre del pomeriggio e con un bel cielo limpido, l'impressione fallace di una città in festa, in cui fosse stata vietata la circolazione delle auto e fossero stati chiusi i negozi per consentire lo svolgimento di una manifestazione pubblica e i cui abitanti avessero invaso le strade per partecipare ai festeggiamenti. I cinema, va da sé, approfittavano di questa vacanza collettiva e facevano ottimi affari, ma il circuito di distribuzione dei film nel dipartimento era interrotto. Dopo due settimane le sale furono costrette a cambiare programmazione e in breve tempo i cinema si ridussero a proiettare sempre lo stesso film. Gli incassi tuttavia non calarono. I caffè, infine, grazie alle notevoli scorte accumulate in una città che ha al primo posto il commercio di vini e di alcolici, poterono anch'essi soddisfare le richieste dei clienti. Si beveva molto, in effetti. Dopo che un caffè ebbe esposto il cartello «Il buon vino uccide i microbi», si rafforzò nell'opinione pubblica l'idea già diffusa fra la gente che l'alcol preservava dalle malattie infettive. tutte le notti, verso le due, le strade erano piene di ubriachi cacciati dai caffè che sproloquiavano all'insegna dell'ottimismo. Ma in un certo senso tutti questi cambiamenti erano così straordinari e si erano prodotti con una tale rapidità che non era facile considerarli normali e duraturi. Il risultato era che continuavamo tutti a mettere in primo piano i nostri sentimenti personali. Uscendo dall'ospedale, due giorni dopo la chiusura delle porte, il dottor Rieu incontrò Cotard che levò verso di lui un volto pieno di soddisfazione. Rieu si congratulò per la bella cera. «Ah sì, sto proprio bene», disse Lometto. «E dica un po', dottore, comincia a diventare una roba seria sta peste, eh?» Il dottore confermò e l'altro constatò con una specie di giubilo «E non c'è motivo perché si fermi proprio adesso, metterà tutto sotto sopra». Camminarono per un po' insieme. Cotard raccontava che un grosso pizzicagnolo del suo quartiere aveva fatto scorta di prodotti alimentari per venderli a caro prezzo e quando erano venuti a prenderlo per portarlo all'ospedale avevano scoperto sotto il letto una gran quantità di cibo in scatola. «Ed è morto! La peste non paga!» Cotard conosceva insomma un mucchio di storie sull'epidemia, vere o false che fossero. Si diceva, per esempio, che una mattina in centro un uomo che presentava tutti i segni della peste in preda al delirio della malattia si fosse precipitato fuori di casa per avventarsi sulla prima donna che passava, gridando che aveva la peste. Ma osservava Cotard in un tono affabile che stonava con la sua affermazione. «Diventeremo tutti matti, poco ma sicuro». Lo stesso pomeriggio anche Joseph Grand si era deciso a fare alcune confidenze al dottor Rie. Aveva visto la fotografia della signora Rie sulla scrivania e aveva guardato il dottore. Rie rispose che la moglie era andata a curarsi fuori città. In un certo senso aveva detto Grand è una fortuna. Il dottore rispose che forse sì, era una fortuna e doveva solo sperare che la moglie guarisse. «Ah!» fece Grand, capisco. E per la prima volta da quando Rie lo conosceva prese a parlare a ruota libera. Benché cercasse ancora le parole, quasi sempre riusciva a trovarle, come se avesse pensato da tempo a ciò che stava dicendo. Si era sposato molto giovane, con una ragazza povera del vicinato. Proprio per potersi sposare, aveva interrotto gli studi ed era andato a lavorare. Né lui né Jeanne uscivano mai dal quartiere. Andava a farle visita a casa e i genitori di Jeanne ridevano un po' di quel pretendente silenzioso e goffo. Il padre era ferroviere. Quando era di riposo lo si vedeva sempre seduto in un angolo vicino alla finestra, pensieroso, intento a guardare il viabai in strada, le mani enormi posate sulle cosce. La madre era sempre occupata nelle faccende domestiche e Jeanne l'aiutava. Era così minuta che Grand non poteva vederla attraversare la strada senza essere angosciato. Gli pareva che i veicoli fossero giganteschi. Un giorno, davanti a un negozio addobbato per Natale, Jeanne guardava incantata la vetrina e a un certo punto si era appoggiata a lui dicendo «Che bello!». Lui le aveva stretto il polso. Così si era deciso il matrimonio. Il resto della storia, secondo Grand, era molto semplice. Capita così a tutti. Ci si sposa, ci si ama ancora un po', si lavora. Si lavora tanto da dimenticarsi di amare. Anche Jean lavorava perché il capufficio non aveva mantenuto le sue promesse. Qui ci voleva un po' di immaginazione per capire cosa intendesse Grand. Colpa della stanchezza, via via si era lasciato andare. Si era fatto sempre più silenzioso e pian piano la moglie aveva smesso di sentirsi amata. Un uomo preso dal lavoro, la povertà, le prospettive per il futuro che sfumano. Non c'è spazio per la passione in un universo del genere. Probabilmente Jeanne aveva sofferto, però era rimasta. A volte capita di soffrire a lungo senza saperlo. Erano passati gli anni. Poi lei se n'era andata. Va da sé che non se n'era andata da sola. Ti ho amato, ma adesso sono stanca. Non sono felice di andarmene, ma non c'è bisogno di essere felici per ricominciare. Questo su per giù quel che gli aveva scritto. Anche Joseph Grand aveva sofferto. Avrebbe potuto ricominciare, come gli suggerì Rieu, ma insomma non aveva più fiducia. Semplicemente continuava a pensare a lei. avrebbe voluto scriverle una lettera per spiegarsi, ma è difficile, diceva, è da tanto che ci penso. Fino a quando ci siamo amati ci siamo capiti senza parole, ma non ci si ama per sempre. A un certo punto avrei dovuto trovare le parole per trattenerla, ma non ci sono riuscito. Grand si soffiava il naso in una specie di tovagliolo a scacchi. Poi si asciugava i baffi. Rieu lo guardava. Mi scusi, dottore, disse il vecchio, ma come dire, di lei mi fido, con lei posso parlare e allora mi emoziono. Grand, visibilmente, era lontano mille miglia dalla peste. La sera Rieu telegrafava alla moglie che la città era chiusa, che lui stava bene, che lei doveva continuare a prendersi cura di sé e che pensava a lei. Capitolo secondo, parte quarta. Tre settimane dopo la chiusura delle porte, Rieu trovò all'uscita dell'ospedale un giovane che lo aspettava. «Immagino che mi riconosca», gli disse questi. Rieu pareva di riconoscerlo, ma esitava. «Sono venuto prima di questi eventi», disse l'altro, «a chiederle informazioni sulle condizioni di vita degli arabi. Mi chiamo Raymond Rambert». «Ah, sì», disse Rieu. «Beh, adesso ha un bel soggetto per un reportage». L'altro sembrava nervoso. Disse che non si trattava di questo e che veniva a chiedere un aiuto al dottor Rieu. «Spero che voglia scusarmi», aggiunse. «Ma in questa città non conosco nessuno e purtroppo il corrispondente del mio giornale è un idiota». Rieu gli propose di andare a piedi fino ad un dispensario in centro, dove doveva dare alcune disposizioni. Percorsero i vicoli del villaggio negro. Cominciava a far sera, ma la città, un tempo chiassosa a quell'ora, sembrava insolitamente vuota. Qualche squillo di tromba, nel cielo ancora adorato, diceva solo che i militari volevano dimostrare di fare il loro lavoro. Frattanto, lungo le vie ripide, fra i muri azzurri, ocra e viola delle case moresche, Rambert parlava, concitato. Aveva lasciato la moglie a Parigi. A dire il vero non era sua moglie, ma non faceva differenza. Le aveva telegrafato appena avevano chiuso la città. Sulle prime aveva pensato che si trattasse di una misura provvisoria e aveva solo tentato di corrispondere con lei. I colleghi di Orano gli avevano detto che non potevano aiutarlo. La posta l'aveva rimandato indietro. Una segretaria della prefettura gli aveva riso in faccia. Alla fine, dopo una fila di due ore, era riuscito a fare accettare un telegramma dove aveva scritto «Tutto bene, a presto». Ma al mattino, quando si era alzato, si era reso conto all'improvviso che in fondo non sapeva quanto tempo la cosa potesse durare e aveva deciso di andarsene. Essendo raccomandato, con il suo mestiere aveva qualche conoscenza, era riuscito a parlare con il capo di gabinetto della prefettura e gli aveva detto che non aveva rapporti con Orano, che non era obbligato a rimanerci, che si trovava lì per caso e che era giusto che gli permettessero di andarsene, anche se una volta fuori avessero dovuto metterlo in quarantena. Il capo di gabinetto gli aveva risposto che capiva benissimo, ma che non si potevano fare eccezioni, che avrebbe considerato la cosa, ma che dopo tutto la situazione era grave e non si poteva prendere alcuna decisione. «Ma insomma», aveva detto Rambert, «io sono straniero in questa città». «Certo, ma in fondo speriamo che l'epidemia non duri a lungo». Quindi aveva cercato di consolare Rambert, sottolineando che a Orano avrebbe potuto trovare materia per un reportage interessante e che a ben guardare, qualunque avvenimento aveva il suo lato buono. Rambert alzava le spalle. Arrivavano in centro. «Non ha senso, dottore, capisce? Io non sono nato per fare dei reportage, ma forse sono nato per vivere con una donna. Non le pare lecito». Rieu disse che in ogni caso sembrava ragionevole. Nei boulevard del centro non c'era la solita folla. Alcuni passanti si affrettavano verso abitazioni lontane. Nessuno sorrideva. Rieu pensò che era l'effetto del comunicato InfDoc diffuso quel giorno. Passate ventiquattro ore, i nostri concittadini ricominciavano a sperare. Ma adesso i numeri erano ancora troppo freschi nella memoria. «Il fatto è che ci siamo appena conosciuti», disse Rambert senza preavviso, «e andiamo molto d'accordo». Rieu non diceva niente. «Ma l'annoio», riprese Rambert. «Volevo semplicemente chiederle se poteva farmi un certificato in cui si dichiara che non ho questa benedetta malattia. Credo che potrebbe essermi utile». Rieu confermò con un cenno del capo, afferrò un bambino che gli si gettava fra le gambe e delicatamente lo rimise in piedi. Si rincamminarono ed arrivarono alla Place d'Armes. I rami dei ficus e delle palme pendevano immobili, grigi di polvere, intorno a una statua della Repubblica, polverosa e sudicia. Si fermarono sotto il monumento. Rieu batte per terra uno dopo l'altro i piedi coperti da una patina biancastra. Guardò Rambert. Con il cappello un po' all'indietro, il colletto della camicia sbottonato sotto la cravatta, mal rasato, il giornalista aveva un'aria torva e ostinata. «Le assicuro che la capisco», disse infine Rieu. «Ma il suo ragionamento non funziona. Non posso farle il certificato, perché in realtà non so se lei ha o non ha la malattia. E perché anche qualora non l'avesse, non potrei certificare che tra l'istante in cui uscirà dal mio studio e quello in cui entrerà in prefettura non sarà contagiato. E poi, comunque». «Comunque», disse Rambert, «e poi comunque anche se le dessi quel certificato, non le servirebbe a niente». «Perché? Perché in questa città ci sono migliaia di uomini nella sua situazione e tuttavia non si può lasciarli uscire. Ma se non hanno la peste? Non è una ragione sufficiente. È una storia assurda, lo so, ma ci riguarda tutti. Bisogna prenderla com'è. Ma io non sono di qui. Da adesso in poi, ahimè, lei sarà di qui come tutti quanti». L'altro si accalorava. «È una questione di umanità, le assicuro. Forse lei non si rende conto di cosa significa una separazione come questa per due persone che si vogliono bene». Rie non rispose subito. Poi disse che pensava di potersene rendere conto. Desiderava con tutte le sue forze che Rambert si ricongiungesse con la sua donna e che tutti quelli che si amavano fossero riuniti, ma c'erano delle ordinanze e delle leggi. C'era la peste e il suo compito era fare quel che era necessario. «No», disse Rambert con amarezza, «lei non può capire. Parla il linguaggio della ragione. Pensa in termini astratti». Il dottore alzò gli occhi alla Repubblica e disse che non sapeva se parlava il linguaggio della ragione, però parlava il linguaggio dell'evidenza e non erano necessariamente la stessa cosa. Il giornalista si sistemava alla cravatta. «Quindi significa che devo arrangiarmi in un altro modo, ma stia pur sicuro», riprese come in un tono di sfida, «che io me ne andrò da questa città». Il dottore disse che continuava a capirlo, ma che la cosa non lo riguardava. «Invece sì che la riguarda», sbottò Rambert. «L'ho cercata perché mi hanno detto che aveva avuto voce in capitolo in molte decisioni. Allora ho pensato che per una volta avrebbe potuto fare un'eccezione alla regola che aveva contribuito a imporre. Ma a lei non importa. Non ha pensato alle persone. Non ha tenuto conto di quelli che sono separati». Rie riconobbe che in un certo senso era vero. Non aveva voluto tenerne conto. «Sì, ecco», fece Rambert, «e adesso parlerà del bene comune. Ma il bene comune è fatto della felicità di ognuno». «Insomma», disse il dottore come tornando in sé dopo una distrazione, «c'è questo e c'è altro. Non bisogna giudicare, ma sbaglia a prendersela. Sarò molto felice se riuscirà a trovare una soluzione. semplicemente ci sono cose che il mio ruolo mi vieta». L'altro scosse la testa con impazienza. «Sì, sbaglio a prendermela e le ho rubato già abbastanza tempo». Rie gli disse di tenerlo al corrente e di non portargli rancore. C'era sicuramente un piano su cui potevano trovarsi. Rambert parve d'un tratto perplesso. «Sì, lo credo anch'io», fece dopo una pausa. «Lo credo mio malgrado e malgrado tutto quello che mi ha detto». Esitò. «Ma non posso approvarla». Si abbassò il cappello sulla fronte e si allontanò con passo veloce. Rie lo vide entrare nell'albergo in cui alloggiava Jean Tarou. Dopo un momento il dottore scosse la testa. Il giornalista aveva ragione nel suo desiderio di felicità, ma aveva ragione anche quando lo accusava. «Lei vive nell'astrazione». Erano astrazione quelle giornate passate all'ospedale dove la peste infieriva, portando a 500 la cifra media di vittime settimanali. Sì, nella tragedia c'era una parte di astrazione e di irrealtà. Ma quando l'astrazione comincia a uccidere, bisogna occuparsi dell'astrazione. Erie sapeva soltanto che quella non era la cosa più facile. Non era facile, per esempio, dirigere l'ospedale ausiliario che gli era stato affidato. Ce n'erano tre adesso. In una stanza che dava sulla sala delle visite, aveva fatto allestire un locale di accettazione. In una infossatura del pavimento c'era un lago di acqua e disinfettante, al cui centro si trovava un isolotto di mattoni. Il malato veniva trasportato sull'isola, rapidamente spogliato, e gli indumenti cadevano nell'acqua. Lavato, asciugato, rivestito con il camice ruvido dell'ospedale, passava nelle mani di Rie, quindi veniva trasferito in una delle corsie. Erano stati costretti a usare il porticato di una scuola, che ad esso conteneva in totale 500 letti, quasi tutti occupati. Dopo l'accettazione del mattino che dirigeva personalmente, dopo aver vaccinato i malati e inciso i bubboni, Rie controllava di nuovo le statistiche, quindi tornava al suo ambulatorio per gli appuntamenti pomeridiani. In serata, infine, faceva le visite a domicilio e rincasava poi a notte fonda. La notte prima, tendendogli un telegramma della nuora, la madre aveva notato che al dottore tremavano le mani. Sì, diceva lui, ma perseverando sarò meno teso. Era forte e resistente. In realtà non era ancora stanco, ma le visite a domicilio, per esempio, gli erano diventate insopportabili. Diagnosticare la febbre epidemica voleva dire far portare via rapidamente il malato. Allora, in effetti, cominciavano l'astrazione e la difficoltà, poiché i familiari sapevano che avrebbero rivisto il malato solo guarito o morto. «Pietà, dottore», diceva la signora Loré, madre della cameriera che lavorava nell'albergo di Tahu. Che significava? Certo che provava pietà, ma non era la pietà che serviva. Bisognava telefonare. Di lì a poco si udiva la sirena dell'ambulanza. All'inizio i vicini aprivano le finestre e guardavano. Poi le chiudevano in tutta fretta. Allora cominciavano le lotte, le lacrime, la persuasione, in poche parole l'astrazione. In quegli appartamenti, sorriscaldati dalla febbre e dall'angoscia, si svolgevano scene di follia. Ma il malato veniva portato via. Rie poteva andarsene. Le prime volte si era limitato a telefonare e a correre da altri malati, senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza. Ma a quel punto i parenti avevano chiuso la porta, preferendo il faccia a faccia con la peste a una separazione di cui adesso conoscevano l'epilogo. Grida, ordini, interventi della polizia e più tardi dell'esercito, il malato era preso d'assalto. Nelle prime settimane Rie era stato costretto a rimanere fino all'arrivo dell'ambulanza. In seguito, quando ogni medico fu accompagnato nel suo giro da un ispettore volontario, Rie poteva correre da un malato all'altro. Ma inizialmente tutte le sere furono come la sera in cui, entrato a casa della signora Lové, un piccolo appartamento decorato di ventagli e fiori finti, fu ricevuto dalla madre, che gli disse con un sorriso abbozzato male, «Spero proprio che non sia la febbre di cui parlano tutti». E lui, sollevando lenzuolo e camicia da notte, contemplava in silenzio le macchie rosse sulla pancia e sulle cosce, i linfonodi gonfi. La madre guardava fra le gambe della figlia e gridava, incapace di dominarsi. Tutte le sere c'erano madri che urlavano così, con aria astratta, davanti a un ventre offerto con tutti i suoi segni mortali. Tutte le sere c'erano braccia che si aggrappavano a quelle di Rie. C'erano parole inutili, promesse e pianti che incombevano. Tutte le sere il suono delle ambulanze provocava crisi inutili, come qualunque dolore. E in capo a quella lunga sfilza di sere sempre identiche, Rie non poteva aspettarsi altro che una sfilza di scene uguali, ripetute all'infinito. Sì, proprio come l'astrazione, la peste era monotona. Una sola cosa forse cambiava, ed era Rie stesso. Lo avvertiva quella sera, ai piedi del monumento alla Repubblica, consapevole soltanto della difficile indifferenza che cominciava a pervaderlo, mentre continuava a guardare la porta dell'albergo in cui Rambert era sparito. Alla fine di quelle settimane sfibranti, dopo tutti quei crepuscoli in cui la città si riversava in strada per girare a vuoto, Rie capiva che non aveva più bisogno di difendersi dalla pietà. Ci si stanca della pietà, quando la pietà è inutile, e nella sensazione del cuore che pian piano si chiudeva su se stesso, il dottore trovava l'unico conforto di quelle giornate massacranti. Sapeva che il suo compito sarebbe stato facilitato, per questo se ne rallegrava. Quando la madre, accogliendolo alle due di notte, si affliggeva per lo sguardo vuoto che posava su di lei, non faceva che dolersi dell'unico sollievo che Rie potesse allora ricevere. Per lottare contro la strazione bisogna assomigliarle un po', ma come poteva Rambert capire questo? Per Rambert, la strazione era tutto ciò che si contrapponeva alla sua felicità. E a dire il vero, Rie sapeva che in un certo senso il giornalista aveva ragione, ma sapeva anche che a volte la strazione si rivela più forte della felicità, e in quel caso, e solo in quello, occorre tenerne conto. Fu ciò che accadde a Rambert, e il dottore lo venne a sapere, dalle confidenze che gli avrebbe poi fatto Rambert stesso. Potè così seguire, su un altro piano, quella specie di cupa lotta tra la felicità di ciascun uomo e le strazioni della peste, che dominò l'intera vita della nostra città durante quel lungo periodo. Capitolo secondo, parte quinta Ma dove gli uni vedevano astrazione, altri vedevano la verità. La fine del primo mese di peste fu in effetti adombrata da una significativa recrudescenza dell'epidemia, e da una veemente predica di padre Pandu, il gesuita che aveva assistito il vecchio Michel all'inizio della malattia. Padre Pandu era già noto per le frequenti collaborazioni al bollettino della Società Geografica di Orano, dove le sue ricostruzioni epigrafiche facevano autorità. Si era però conquistato un pubblico più vasto rispetto a quello di uno specialista, con una serie di conferenze sull'individualismo moderno. Qui si era mostrato acceso sostenitore di un cristianesimo esigente, distante tanto dal libertinismo moderno quanto dall'oscurantismo dei secoli passati. In quel frangente non aveva risparmiato all'uditorio alcune dure verità, da ciò la sua reputazione. Verso la fine del mese, dunque, le autorità ecclesiastiche della nostra città decisero di combattere la peste con i mezzi a loro disposizione, organizzando una settimana di preghiere collettive. Le manifestazioni della pietà pubblica dovevano concludersi la domenica con una messa solenne dedicata a San Rocco, il santo appestato, e per quell'occasione era stato chiesto a padre Pandu di prendere la parola. Da una quindicina di giorni costui aveva quindi messo da parte i lavori su Sant'Agostino e la chiesa africana che gli erano valsi un posto di primo piano nel suo ordine. Uomo di natura focosa e appassionata aveva accettato senza indugi l'incarico affidatogli. Ben prima della predica in città se ne parlava già ed essa segnò a suo modo una data importante nella storia di quel periodo. La settimana fu seguitissima. In tempi normali non si può dire che gli abitanti di Orano siano particolarmente devoti. La domenica mattina, per esempio, i bagni al mare fanno una seria concorrenza alla messa e non erano neppure stati illuminati da una improvvisa conversione. Ma da una parte al mare era ormai impossibile andare per via della città chiusa e del porto inaccessibile e dall'altra essi vivevano in uno stato d'animo particolare in cui pur senza avere accettato dentro di sé gli avvenimenti sorprendenti che li colpivano sentivano che indubbiamente qualcosa era cambiato. Molti continuavano tuttavia a sperare che l'epidemia si sarebbe fermata e che sarebbero stati risparmiati insieme con i familiari. Perciò non avvertivano ancora nessun obbligo. Per loro la peste era solo un ospite sgradita che prima o poi se ne sarebbe andata come era venuta. Spaventati, sì, ma non disperati, non erano ancora giunti al momento in cui avrebbero guardato alla peste come alla forma stessa della loro vita, dimenticando l'esistenza che avevano condotto prima della sua apparizione. In buona sostanza erano in attesa. Relativamente alla religione, come a molte altre questioni, la peste aveva destato in loro un atteggiamento singolare, ugualmente distante dall'indifferenza come dalla passione e che si poteva sintetizzare nella parola obiettività. La maggior parte di coloro che seguirono la settimana di preghiere, per esempio, avrebbe sottoscritto la frase pronunciata davanti al dottor Rue da uno dei fedeli. Comunque sia, male non può fare. Lo stesso Tarou, dopo aver annotato sui tacquini che in analoghi frangenti i cinesi vanno a suonare il tamburello davanti al genio della peste, osservava che era del tutto impossibile sapere se il tamburello non si rivelasse in realtà più efficace delle misure profilattiche. Aggiungeva soltanto che per dirimere la questione occorreva appurare l'effettiva esistenza di un genio della peste e che la nostra ignoranza al riguardo rendeva vana qualunque opinione. Come che fosse, per tutta la settimana i fedeli riempirono quasi per intero la cattedrale della nostra città. Nei primi giorni molti cittadini si limitavano a stazionare nei giardini di palme e di melograni che si estendevano davanti al portale per ascoltare il fiume di invocazioni e di preghiere che giungevano fino in strada. Pian piano, complice l'emulazione, quegli stessi uditori si decisero a entrare e a unire la propria timida voce ai responsori del pubblico. E la domenica una folla considerevole invase la navata dilagando fin sul sagrato e sugli ultimi scalini. Dal giorno precedente il cielo si era coperto e pioveva dirotto. Coloro che erano all'esterno avevano aperto gli ombrelli. Alleggiava nella cattedrale un odore di incenso e di stoffe bagnate quando padre Panlu salì sul pulpito. Era un uomo di statura media ma dal fisico massiccio. Quando si appoggiò al bordo del pulpito stringendo il legno fra le grosse mani si vide di lui solo una forma tozza e nera, sormontata dalle due chiazze rubiconde delle guance sotto gli occhiali di metallo. Aveva una voce forte e appassionata che arrivava a lontano e nell'istante in cui affrontò l'uditorio scandendo un'unica frase veemente «Fratelli, la sventura vi ha colpito! Fratelli, ve lo siete meritato!» Un mormorio percorse il pubblico fino al sagrato. Ciò che seguì non parve avere sulle prime alcun nesso logico con questo drammatico esordio. Solo dal resto del discorso i nostri concittadini si resero conto che con un abile stratagemma oratorio il prete aveva dato in una sola stoccata quasi a se stasse un colpo l'argomento dell'intera predica. Subito dopo quella frase, infatti, Panlu citò il testo dell'Esodo relativo alla peste in Egitto e disse «La prima volta in cui questo flagello compare nella storia è per colpire i nemici di Dio. Il faraone si oppone ai disegni eterni e la peste lo costringe allora a inginocchiarsi. Sin dagli albori del mondo il flagello di Dio mette ai suoi piedi gli orgogliosi e i ciechi. Meditate questo e inginocchiatevi». Adesso fuori pioveva Scrosci e l'ultima frase, pronunciata nel silenzio assoluto, reso ancora più intenso dal crepitio dell'acquazzone sulle vetrate, riecheggiò con tale intensità che dopo un attimo di esitazione alcuni fra i presenti si lasciarono scivolare dalla sedia all'inginocchiatoio. Altri ritennero che si dovesse seguire il loro esempio, sicché di lì a poco, uno dopo l'altro, senza alcun rumore all'infuori dello scricchiolio di qualche sedia, furono tutti in ginocchio. Panlu allora si raddrizzò, fece un respiro profondo e riprese in tono sempre più vibrante. «Se oggi la peste vi guarda, è perché è arrivato il momento di riflettere. Nulla hanno da temere i giusti, ma che i malvagi tremino. Nell'immenso granaio dell'universo, l'implacabile flagello batterà la messe umana, finché la paglia non sarà separata dal grano. Ci sarà più paglia che grano, ci saranno più chiamati che eletti. Ma non fu Dio a volere questa sventura. Troppo a lungo il mondo è sceso a patti con il male, troppo a lungo si è affidato alla misericordia divina. Era sufficiente pentirsi e tutto era permesso, e per il pentimento chiunque si sentiva forte. Giunto il momento lo si sarebbe provato senz'altro. Nel frattempo la cosa più facile era lasciarsi andare. La misericordia divina avrebbe fatto il resto. Ebbene, questo non poteva durare. Dio, che per tanto tempo ha mostrato agli uomini di questa città il suo volto di misericordia, stanco di aspettare, deluso nella sua speranza eterna, ha distolto lo sguardo. Privati della luce di Dio, ora saremo a lungo immersi nelle tenebre della peste. Fra i presenti qualcuno scalpitò un po' come un cavallo impaziente. Dopo una breve pausa il sacerdote riprese in tono più basso. Si narra nella leggenda aurea che ai tempi del re Longobardo Cuniperto, l'Italia fu devastata da una peste così violenta, che i vivi appena bastavano a seppellire i morti. E la peste imperversava soprattutto a Roma e a Pavia. E un angelo buono apparve, che comandava all'angelo cattivo armato di uno spiedo, e gli ordinava di colpire le case. E per ogni colpo che una casa riceveva, c'era un morto che ne usciva. A questo punto, Panlu tese le corte braccia verso il sagrato, come a indicare qualcosa dietro la tenda mobile della pioggia. «Fratelli», disse con forza, «la stessa caccia mortale avviene oggi nelle nostre strade. Guardatelo, questo angelo della peste, bello come il lucifero, e fulgido come il male, in piedi sui tetti. La mano destra a stringere lo spiedo rosso all'altezza della testa, e la mano sinistra a indicare una delle vostre case. Forse in questo momento tende il dito verso la vostra porta. Lo spiedo risuona sul legno. In questo momento la peste entra nella vostra casa, si siede in camera da letto, e aspetta il vostro ritorno. È lì, paziente e attenta, inconfutabile come l'ordine del mondo. E nessuna potenza terrena, né tantomeno, sappiatelo, la vana scienza umana potrà farvi evitare la mano che tenderà verso di voi. Così, battuti sull'aia sanguinosa del dolore, sarete gettati via con la paglia». Qui il sacerdote riprese più diffusamente l'immagine drammatica del flagello. Evocò l'enorme pezzo di legno che vorticava sopra la città, colpendo a caso, per poi sollevarsi, grondante, e sparpagliare il sangue e il dolore umano in una semina che avrebbe preparato le messi della verità. Giunto alla fine della tirata, padre Panlu si fermò, i capelli sulla fronte, il corpo scosso da un tremito che dalle mani si comunicava al pulpito, e quindi riprese, con voce più sorda, ma in tono accusatore, «Sì, è giunto il momento di riflettere. Pensavate che fosse sufficiente far visita a Dio la domenica per avere le giornate libere? Credevate di poterlo ripagare della vostra criminale indifferenza con qualche genuflessione? Ma Dio non è tiepido. Il suo amore divorante non si accontentava di questi sporadici incontri. Voleva vedervi di più. È questo il suo modo di amarvi, ed è in vero l'unico modo di amare. Ecco perché, stanco di aspettare la vostra venuta, ha permesso che il flagello vi visitasse, come ha visitato tutte le città del peccato, da che mondo è mondo. Adesso sapete cos'è il peccato, come l'hanno saputo Caino e i suoi figli. Quelli prima del diluvio, quelli di Sodoma e Gomorra, il Faraone e Giobbe, e tutti i riprovati. E come costoro, dal giorno in cui la città ha chiuso le proprie mura su di voi e sul flagello, rivolgete uno sguardo nuovo agli uomini e alle cose. Ora, finalmente, sapete che bisogna avvenire all'essenziale. Un vento umido si infilava adesso nella navata e le fiamme dei ceri si piegarono, sfrigolando. Un denso odore di cera, alcuni colpi di tosse e uno starnuto si levarono verso padre Panlu, il quale tornò alla sua analisi con una sottigliezza che fu molto apprezzata, riprendendo con voce calma. Molti di voi, lo so, si domandano dove voglio arrivare. Voglio far arrivare voi alla verità e indurvi a rallegrarvi, nonostante tutto ciò che ho detto. Non è più tempo per i consigli, per una mano fraterna che possa spingervi verso il bene. Oggi la verità è un ordine ed è uno spiedo rosso a indicarvi la via della salvezza e a spingervi verso di essa. Proprio lì, fratelli, si manifesta infine la misericordia divina che ha messo in tutte le cose il bene e il male, la collera e la pietà, la peste e la salvezza. Lo stesso flagello che vi strazia, vi eleva e vi mostra la via. Molto tempo fa, i cristiani di Abissinia accoglievano la peste come un mezzo efficace di origine divina per guadagnarsi l'eternità. Chi non ne era colpito si avvolgeva nelle lenzuola degli appestati per andare incontro a morte sicura. Non è raccomandabile questa brama di salvezza. Rivela una fretta degna di biasimo, molto prossima all'orgoglio. Non si deve essere più precipitosi di Dio e tutto ciò che pretende di accelerare l'ordine immutabile da Lui stabilito una volta per tutte, conduce all'eresia. Da questo esempio possiamo però trarre una lezione. ai nostri spiriti più lucidi esso non fa che mostrare il prezioso bagliore di eternità racchiuso in ogni sofferenza. E tale bagliore rischiara i sentieri del crepuscolo che conducono alla liberazione. Esprime la volontà divina che trasforma ineluttabilmente il male in bene. Oggi ancora ci guida in questo cammino di morte, di angosce e di clamori verso il silenzio essenziale e verso il principio di ogni vita. Ecco, fratelli, l'immensa consolazione che volevo recarvi affinché non vi giungessero da qui solo parole di castigo ma anche un pensiero che consola. Si sentiva che Panlu aveva finito. Fuori aveva smesso di piovere. Un cielo intriso di acqua e di sole riversava sulla piazza una luce più fresca. Dalla strada si levavano voci, rumori di veicoli che passavano, tutto il linguaggio di una città che si risveglia. L'uditorio raccoglieva con discrezione le proprie cose in un tramestio sommesso. Il sacerdote riprese tuttavia la parola e disse che dopo aver mostrato l'origine divina della peste e il carattere punitivo del flagello, si avviava ora a concludere, ma non avrebbe fatto ricorso ad un'eloquenza senz'altro inopportuna in una materia tanto tragica. Gli pareva che tutto fosse ormai chiaro a tutti. Ricordò soltanto che durante la grande peste di Marsiglia il cronista Mathieu Marais si doleva di essere precipitato nell'inferno a vivere senza conforto né speranza. Ebbene, Mathieu Marais era cieco perché mai come oggi padre Panlu aveva sentito il conforto divino e la speranza cristiana che erano offerti a tutti. Lui sperava contro ogni speranza che nonostante l'orrore di quelle giornate e le grida degli agonizzanti, i nostri concittadini avrebbero rivolto al cielo l'unica parola che fosse cristiana e che era una parola d'amore. Dio avrebbe fatto il resto. Capitolo secondo parte sesta. Difficile dire se questa predica ebbe qualche effetto sui nostri concittadini. Il giudice Houghton dichiarò al dottor Rieu di aver trovato il discorso di padre Panlu assolutamente ineccepibile, ma non tutti erano così categorici. Semplicemente la predica rese più evidente a Taluni l'idea finora vaga che erano stati condannati per un crimine sconosciuto a una detenzione inaudita. E mentre alcuni continuavano la solita vita e si adattavano alla reclusione, altri invece ebbero come unico pensiero di evadere da quella prigione. In un primo tempo tutti avevano accettato di essere isolati dal mondo esterno come avrebbero accettato un inconveniente temporaneo che scombinava solo qualche abitudine. Tuttavia, consapevoli d'un tratto di essere come sequestrati sotto la cappa del cielo dove iniziava a sfrigolare l'estate, avvertivano confusamente che quella reclusione minacciava tutta la loro vita e quando arrivava la sera l'energia che ritrovavano con il fresco li spingeva a talora ad azioni disperate. In primo luogo, che fosse o meno una coincidenza, proprio a partire da quella domenica ci fu in città una specie di paura, così diffusa e profonda, da suggerire che i nostri concittadini cominciavano davvero a rendersi conto della situazione in cui si trovavano. Da questo punto di vista, l'atmosfera in cui vivevamo nella nostra città subì qualche cambiamento, ma il vero interrogativo è se a cambiare fu l'atmosfera o non furono invece gli animi. Qualche giorno dopo la predica, Rieu commentava l'avvenimento con Grand dirigendosi verso i sobborghi, quando nel buio urtò un uomo che ciondolava immobile davanti a loro. In quel preciso istante si accesero i lampioni cittadini, cosa che ormai avveniva sempre più tardi. La luce alta dietro Rieu e Grand illuminò improvvisamente l'uomo che rideva in silenzio, con gli occhi chiusi. Il volto biancastro, disteso da una muta ilarità, era grondante di sudore. Passarono oltre. «È un pazzo», disse Grand. Rieu, che l'aveva preso sotto braccio per trascinarlo via, sentì che l'impiegato tremava dal nervosismo. «Tra un po' in città ci saranno solo pazzi», fece Rieu. Complice forse la stanchezza, si sentiva la gola secca. «Beviamo qualcosa». Nel piccolo caffè dove entrarono, illuminato da una sola lampada sopra il bancone, la gente parlava sottovoce, inspiegabilmente, nell'aria spessa e rossastra. Con gran sorpresa del dottore, Grand ordinò al banco una bevanda alcolica e la beve d'un fiato, dichiarando che era forte. Poi volle uscire. Fuori pareva a Rieu che la notte fosse piena di gemiti. Da qualche parte, nel cielo nero, al di sopra dei lampioni, un fischio sordo, gli ricordò l'invisibile flagello che rimestava instancabilmente l'aria calda. «Meno male, meno male», diceva Grand. Rieu si domandava cosa volesse dire. «Meno male», diceva l'altro, «meno male che ho il mio lavoro». «Sì», disse Rieu, «è una bella fortuna». E ben deciso a non ascoltare il fischio, domandò a Grand se era soddisfatto di quel lavoro. «Beh, credo di essere sulla buona strada». «Ne ha ancora per molto tempo». Grand parve animarsi. Il calore dell'alcol passò nella voce. «Non lo so, ma il problema non è questo, dottore, no, non è questo il problema». Nel buio, Rieu intuiva che l'altro agitava le braccia. Sembrava rimuginare qualcosa che arrivò di colpo, torrenziale. «Quello che voglio, capisce, dottore, è che il giorno in cui il manoscritto arriverà dall'editore, lui, dopo averlo letto, si alzi e dica ai collaboratori, signori miei, tanto di cappello». Rieu fu colto di sorpresa da questa brusca dichiarazione. Gli parve che l'amico facesse il gesto di levarsi il cappello, portando la mano alla testa e poi abbassando il braccio. Là in alto lo strano fischio sembrava riprendere con più forza. «Sì», diceva Grand, «deve essere perfetto». Benché poco addentro alle usanze della letteratura, Rieu aveva tuttavia l'impressione che le cose non fossero così semplici e che, per esempio, gli editori nei loro uffici fossero a capo scoperto. In realtà, però, era tutto da vedere, quindi Rieu preferì non dire niente. Suo malgrado prestava attenzione ai rumori misteriosi della peste. Si avvicinavano al quartiere di Grand e, poiché era situato un po' in alto, li rinfrescava una leggera brezza che intanto ripuliva la città di tutti i suoi rumori. Grand, però, continuava a parlare e Rieu non capiva tutto quello che diceva. Colse soltanto che l'opera in questione aveva già molte pagine, ma che lo sforzo per farne qualcosa di perfetto era per l'autore fonte di grande sofferenza. Intere serate, intere settimane su una parola e a volte una semplice congiunzione. Qui Grand si fermò e prese a Rieu per un bottone del cappotto. Le parole gli uscivano malferme dalla bocca sguarnita. Intendiamoci, dottore, in teoria non c'è niente di più facile che scegliere fra ma ed e. Più difficile, già, è optare fra e e poi, e la difficoltà aumenta con poi e in seguito, ma indubbiamente la cosa più difficile è decidere se mettere o non mettere una e. Sì, disse Rieu, capisco, e riprese a camminare. L'altro parve confuso. Lo raggiunse. Mi scusi, farfugliò, non so cosa mi è preso stasera. Rieu gli diede una leggera pacca sulla spalla e gli disse che voleva aiutarlo e che la sua storia lo interessava molto. Grand parve un po' rasserenato e, giunto davanti a casa, dopo qualche esitazione, propose al dottore di salire un momento. Rieu accettò. Nella sala da pranzo Grand lo invitò a sedersi ad un tavolo coperto di fogli pieni di correzioni su una grafia minutissima. Sì, è quello, disse Grand al dottore che lo interrogava con lo sguardo, ma vuole bere qualcosa? Ho un po' di vino. Rieu rifiutò. Guardava i fogli. Non guardi, disse Grand, è la mia prima frase, sapesse come mi fa tribolare. Oh, se mi fa tribolare. Contemplava anche lui tutti quei fogli e la mano parve inesorabilmente attratta da uno di essi, che Grand sollevò in controluce davanti alla lampadina elettrica senza paralume. Il foglio gli tremava nella mano. Rieu notò che l'impiegato aveva la fronte madida. Si segga, disse, e me lo legga. L'altro lo guardò e sorrise con una specie di gratitudine. Sì, disse, mi farebbe proprio piacere. Aspettò un po' continuando a guardare il foglio, quindi si sedette. Frattanto Rieu prestava orecchio ad una specie di vago ronzio che in città sembrava rispondere al fischio del flagello. Aveva in quel preciso istante una percezione straordinariamente vivida della città che si estendeva ai suoi piedi, del mondo chiuso che essa costituiva e delle grida terribili che soffocava nella notte. La voce di Grand si levò sorda. Una bella mattina nel mese di maggio una leggiadra amazzone percorreva in sella ad un'elegante giumenta saura. I viali fioriti del bois de Boulogne. Tornò il silenzio e con esso il brusio indistinto della città in preda alla sofferenza. Grand aveva posato il foglio e continuava a contemplarlo. Dopo un po' rialzò gli occhi. Che cosa ne pensa? Rieu rispose che da quell'inizio era curioso di conoscere il seguito, ma l'altro disse con foga che non era il punto di vista giusto. Batte il palmo della mano sui fogli. Questo è solo un abbozzo. Quando sarò riuscito a rendere perfettamente la scena che ho in testa, quando la mia frase avrà lo stesso ritmo della passeggiata al trotto, un due tre, un due tre, allora il resto sarà più facile e soprattutto la verosimiglianza sarà tale da subito che si potrà davvero dire tanto di cappello. Ma per arrivare lì doveva ancora lavorare sodo. Quella frase non avrebbe mai accettato di darla ad un tipografo così com'era, perché nonostante la soddisfazione che talora gli procurava si rendeva conto che non aderiva ancora appieno alla realtà e che in una certa misura conservava una facilità di tono che poteva avvicinarla, seppur molto da lontano, ma poteva comunque avvicinarla a un cliché. Questo era su per giù il senso di quel che diceva quando udirono sotto le finestre alcuni uomini che correvano. Rie si alzò. Vedrà che cosa ne tirerò fuori, diceva Gant e rivolto verso la finestra aggiunse quando tutto questo sarà finito. Ma il rumore di passi continuava. Rie già scendeva e quando fu in strada due uomini l'oltre passarono. Sembravano diretti verso le porte della città. Con il caldo e la peste, infatti, alcuni nostri concittadini avevano perso la testa e cedendo alla violenza avevano cercato di eludere la sorveglianza dei posti di guardia per scappare fuori dalla città. Capitolo secondo, parte settima. Anche altri come Rambert cercavano di fuggire da quell'atmosfera di panico incipiente, ma con maggiore ostinazione e accortezza, seppure non con maggiore successo. In un primo tempo Rambert aveva continuato a percorrere le vie ufficiali. A suo dire, l'ostinazione aveva sempre la meglio su tutto e per certi versi essere un tipo sveglio faceva parte del suo lavoro. Aveva così fatto visita a una gran quantità di funzionari e di persone la cui competenza era solitamente fuori discussione. Nel caso specifico, però, tale competenza era del tutto inutile. Si trattava, il più delle volte, di uomini con le idee chiare e ben definite su ciò che riguardava le banche o l'esportazione o gli agrumi o ancora il commercio dei vini, che possedevano conoscenze indiscutibili sui problemi di contenziosi o di assicurazioni, oltre a solidi titoli di studio e a un'indubbia buona volontà. Anzi, quel che più colpiva in tutti era la buona volontà. In tema di peste, però, le loro conoscenze erano pressoché nulle. Eppure, davanti a ciascuno di loro e ogni volta che era stato possibile, Rambert aveva perorato la sua causa. Il succo era sempre che lui era estraneo alla nostra città e che quindi il suo caso doveva essere esaminato a parte. Gli interlocutori del giornalista per lo più convenivano, ma in genere gli facevano presente che in quella situazione si trovava un gran numero di persone e che, pertanto, il suo caso non era eccezionale come credeva. Rambert a quel punto poteva rispondere che questo non cambiava il succo della questione e loro rispondevano che però qualcosa cambiava quanto agli ostacoli amministrativi che si opponevano a qualunque misura di favore suscettibile di creare ciò che costoro chiamavano, con una smorfia di somma ripugnanza, un precedente. Secondo la classificazione che Rambert propose al dottor Rie, questo genere di sofisti costituivano la categoria dei formalisti. Accanto a loro si annoveravano i parlantieri, i quali assicuravano il postulante che la situazione non sarebbe durata a lungo e prodighi di buoni consigli, anziché delle decisioni che da loro ci si aspettava, consolavano Rambert asserendo che si trattava soltanto di una seccatura temporanea. C'erano poi gli importanti, i quali pregavano il visitatore di rilasciare una dichiarazione scritta sul suo caso e lo informavano che avrebbero in seguito deliberato sul caso medesimo. I futili che gli proponevano buoni alloggio o indirizzi di pensioni economiche, i metodici che facevano compilare un modulo e poi lo protocollavano, gli oberati che alzavano le braccia al cielo e gli importunati che distoglievano lo sguardo. E infine c'erano i tradizionali, di gran lunga i più numerosi, che indicavano a Rambert un altro ufficio o una nuova trafila. Così il giornalista si era speso in una infinità di visite e a forza di aspettare seduto su un divanetto di similpelle, davanti a grandi manifesti che invitavano a sottoscrivere buoni del tesoro esenti da imposte o ad arruolarsi nell'esercito coloniale e a forza di entrare in uffici dove i volti erano prevedibili come lo schedario a cassetti e gli scaffali di faldoni, si era fatto un'idea precisa di cosa potesse essere un ufficio comunale o una prefettura. Il vantaggio, diceva Rambert a Rieu con una sfumatura di amarezza, era che tutto questo gli nascondeva la vera situazione. I progressi concreti della peste gli sfuggivano, senza contare che così i giorni passavano più in fretta e nella situazione in cui si trovava l'intera città si poteva dire che ogni giorno trascorso avvicinava ciascun uomo a condizione che non morisse alla fine delle sue traversie. Rieu dovette ammettere che questo punto era vero, benché si trattasse di una verità un po' troppo generica. A un certo momento Rambert nutri qualche speranza. Aveva ricevuto dalla prefettura un modulo anagrafico in bianco da compilare integralmente. Il modulo chiedeva i dati personali, lo stato civile, il reddito, passato e attuale e quel che definivano il suo curriculum vitae. Si fece l'idea che si trattasse di un'indagine atta a censire le persone che potevano essere autorizzate a tornare nel luogo di residenza. Tale impressione fu corroborata dalle poche confuse informazioni raccolte presso qualche impiegato, ma con una complicata trafila riuscì a rintracciare l'ufficio che aveva spedito il modulo e gli dissero allora che quelle informazioni erano state raccolte nell'eventualità. «Nell'eventualità di cosa?» domandò Rambert. Gli fu allora precisato che era nell'eventualità si fosse ammalato di peste e ne fosse morto, affinché potessero per un verso avvisare i familiari e per un altro verso sapere se le spese ospedaliere fossero da considerarsi a carico del comune o se viceversa se ne potesse attendere il rimborso dalla famiglia. Evidentemente ciò dimostrava che non era del tutto separato da colei che lo aspettava dal momento che la società si occupava di loro, ma non era una consolazione. La cosa degna di nota e che infatti Rambert notò era come nel pieno di una catastrofe un ufficio continuasse a svolgere le proprie funzioni e a prendere iniziative risalenti a una fase pregressa, sovente all'insaputa delle alte sfere per il semplice motivo che il suddetto ufficio era previsto per tali funzioni. Il periodo che seguì fu per Rambert insieme il più facile e il più difficile. Era un periodo all'insegna dell'intorpidimento. Aveva girato tutti gli uffici, battuto tutte le strade possibili, su quel fronte per ora non c'erano vie d'uscita. Allora vagava da un caffè all'altro. Al mattino si sedeva ad un tavolino davanti ad un bicchiere di birra tiepida, leggeva un giornale con la speranza di trovarvi qualche segno della fine imminente della malattia. Guardava i volti dei passanti, si distoglieva con orrore dalla loro espressione di tristezza e dopo aver letto per la centesima volta le insegne dei negozi che aveva di fronte e la pubblicità dei grandi aperitivi che ormai non si servivano più. Si alzava e camminava a caso per le vie gialle della città. Così tra una passeggiata solitaria e un caffè e tra un caffè e un ristorante tirava sera. Rie lo intravide proprio una sera alla porta di un caffè dove il giornalista esitava a entrare. Parve poi decidersi e andò a sedersi in fondo alla sala. Era l'ora in cui nei caffè, obbedendo a ordini venuti dall'alto, si ritardava il più possibile il momento di accendere le luci. Il crepuscolo invadeva la sala come un'acqua grigia. Il rosa del tramonto si rifletteva nelle vetrate e il marmo dei tavoli riluceva appena nel buio incombente. Nella sala deserta Robert sembrava un'ombra sperduta e Rie pensò che questa era per lui l'ora dello sconforto, ma era anche il momento in cui tutti i prigionieri della città avvertivano il proprio e occorreva fare qualcosa per affrettare il momento della liberazione. Rie se ne andò. Rambert trascorreva anche lunghi momenti alla stazione. L'accesso ai binari era vietato, ma le sale d'aspetto cui si entrava dall'esterno rimanevano aperte e nelle giornate molto calde erano talora occupate da qualche mendicante, poiché erano ombrose e fresche. Rambert veniva a leggere vecchi orari, i cartelli che vietavano disputare e il regolamento della polizia ferroviaria, poi si sedeva in un angolo. La sala era buia. Una vecchia stufa di ghisa si raffreddava da mesi, in mezzo ai calchi a otto di antiche irrigazioni. Appesi al muro, alcuni manifesti invitavano ad una vita felice e libera a bandol o a canne. Rambert sperimentava qui quella sorta di spaventosa libertà che si scopre quando si è ormai privati di tutto. Le immagini che allora gli erano più difficili da sopportare, stando almeno a ciò che diceva Rie, erano quelle di Parigi. Un paesaggio di vecchie pietre e di acqua, i piccioni del Palais Royale, la Gare du Nord, i quartieri deserti intorno al Pantheon e qualche altro luogo in una città che non sapeva di avere amato tanto, perseguitavano Rambert e gli impedivano di fare alcunché di preciso. Rie pensava soltanto che lui identificava tali immagini con quelle del suo amore. E il giorno in cui Rambert gli disse che amava svegliarsi alle quattro del mattino e pensare alla sua città, il dottore tradusse subito dal profondo della propria esperienza che in quel momento lui amava immaginare la donna che aveva lasciato. Era infatti l'ora in cui poteva impadronirsi di lei. Nessuno fa niente in genere alle quattro del mattino anche se la notte è stata una notte di tradimento. A quell'ora tutti dormono ed è rassicurante poiché il grande desiderio di un cuore inquieto è possedere ininterrottamente l'essere amato o poterlo far piombare quando giunge il tempo dell'assenza in un sonno senza sogni che abbia fine solo il giorno del ricongiungimento. Capitolo secondo parte ottava. Poco dopo la predica cominciò il caldo. Si si avvicinava alla fine di giugno. L'indomani delle piogge tardive che avevano segnato la domenica della predica. L'estate esplose di colpo nel cielo e sopra le case. Subito si levò un gran vento bollente che soffiò per un giorno intero e seccò i muri. Il sole si piantò nel cielo. Per tutto il giorno si riversarono sulla città ondate ininterrotte di caldo e di luce. Tranne che sotto i portici o dentro le case pareva non esistesse un punto della città che non fosse esposto al riverbero più accecante. Il sole inseguiva i nostri concittadini ovunque e se solo si fermavano li colpiva. Poiché questi primi caldi coincisero con un aumento vertiginoso del numero delle vittime che arrivarono a circa 700 alla settimana una specie di prostrazione si impadronì della città. Nei soborghi tra le vie piatte e le case a terrazze l'animazione diminuì e in quei quartieri dove la gente viveva sempre affacciata in strada tutte le porte erano chiuse e così le persiane non si sa se per proteggersi dal sole o dalla peste. Da alcune case tuttavia uscivano dei gemiti. Prima quando questo accadeva si vedevano spesso dei curiosi in strada in ascolto. Dopo quei lunghi allarmi però era come se il cuore di ognuno si fosse indurito e tutti camminavano o vivevano accanto ai lamenti come se fossero stati il linguaggio naturale degli uomini. I disordini alle porte che avevano costretto i gendarme a fare uso delle armi crearono una sorda agitazione. C'erano stati senz'altro dei feriti ma in città tutto veniva ingigantito per effetto del caldo e della paura e si parlava di morti. È pur vero che il malcontento cresceva e che le nostre autorità temendo il peggio avevano valutato seriamente le misure da prendere nel caso in cui la popolazione oppressa dal flagello si fosse lasciata andare alla rivolta. I giornali pubblicarono decreti che rinnovavano il divieto di uscire e minacciavano i contravventori di pene detentive. Pattuglie percorsero la città. Nelle vie deserte e roventi si vedevano spesso sopraggiungere annunciate dal rumore degli zoccoli sul selciato guardie a cavallo che passavano tra infilate di finestre chiuse. Sparita la pattuglia sulla città minacciata calava di nuovo un silenzio pesante e circospetto. Qua e là riecheggiavano gli spari delle squadre speciali incaricate da una recente ordinanza di uccidere cani e gatti che potevano trasmettere le pulci. Queste secche detonazioni contribuivano a creare nella città un clima di allarme. Nel caldo e nel silenzio e per il cuore impaurito dei nostri concittadini tutto assumeva del resto un rilievo maggiore. Per la prima volta i colori del cielo e gli odori della terra che segnano il passaggio delle stagioni erano evidenti a tutti. Chiunque capiva, sgomento, che il caldo avrebbe favorito l'epidemia e nello stesso tempo chiunque vedeva che ormai l'estate era arrivata. Il grido dei rondoni nel cielo della sera diventava più esile sopra la città. Non era più commisurato ai crepuscoli di giugno che nel nostro paese dilatano l'orizzonte. I fiori nei mercati non arrivavano più in bocciolo. Erano già schiusi e dopo la vendita del mattino i petali disseminavano i marciapiedi polverosi. Era evidente che la primavera si era consumata, si era prodigata nelle migliaia di fiori già sbocciati ovunque e adesso si sarebbe assopita, lentamente schiacciata sotto il duplice peso della peste e del caldo. Per tutti i nostri concittadini quel cielo d'estate, quelle strade che sbiadivano sotto i colori della polvere e della noia, avevano lo stesso significato minaccioso delle centinaia di morti che ogni giorno gravavano sulla città. Con il sole incessante, quelle ore che hanno il sapore del sonno e delle vacanze non invitavano più come prima ai piaceri dell'acqua e della carne. Suonavano invece vuote nella città chiusa e silenziosa. Avevano perduto lo splendore ramato delle stagioni felici. Il sole della peste spegneva i colori e fugava ogni gioia. Era questa una delle grandi rivoluzioni della malattia. Tutti i nostri concittadini accoglievano abitualmente l'estate con esultanza. La città si spalancava allora sul mare e riversava i giovani sulle spiagge. Quell'estate invece il mare, pur vicino, era inaccessibile e il corpo non aveva più diritto alle sue gioie. Che fare in queste condizioni? È di nuovo Tarou a dare l'immagine più fedele della nostra vita di allora. Seguiva, come è ovvio, i progressi della peste in generale, rilevando opportunamente che la radio segnò una svolta nell'epidemia quando non annunciò più centinaia di decessi alla settimana, ma 92, 107 e 120 morti al giorno. I giornali e le autorità vogliono giocare d'astuzia con la peste. Credono di farle perdere punti perché 130 è una cifra più bassa di 910. Riportava anche gli aspetti drammatici o spettacolari dell'epidemia, come la donna che in un quartiere deserto con tutte le persiane chiuse aveva spalancato di colpo una finestra sopra di lui, cacciato due urla fortissime e poi tirato a sé le imposte sull'ombra fitta della stanza. Ma annotava pure che dalle farmacie erano scomparse le pastiglie di menta che molti succhiavano per premunirsi da un eventuale contagio. Continuava poi ad osservare i suoi personaggi preferiti. Si scopriva così che anche il vecchietto dei gatti viveva una tragedia. Una mattina si erano infatti uditi degli spari e, scriveva Tarou, qualche sputo di piombo aveva ucciso la stragrande maggioranza dei gatti e terrorizzato gli altri che erano scappati. Lo stesso giorno il vecchietto era uscito sul balcone alla solita ora. Aveva mostrato una certa sorpresa, si era affacciato, aveva scrutato i due lati della via e si era rassegnato ad aspettare. Con la mano tamburellava la ringhiera del balcone. Aveva aspettato ancora, aveva fatto a pezzetti un po' di carta era rientrato, era uscito di nuovo e dopo un po' era sparito di colpo, chiudendosi dietro con rabbia la porta finestra. La stessa scena si ripetè nei giorni seguenti, ma si leggevano sul volto del vecchietto una tristezza e uno sgomento sempre più marcati. Trascorsa una settimana, Tahu aspettò in vano la quotidiana apparizione e le finestre rimasero ostinatamente chiuse su un più che legittimo sconforto. In un periodo di peste vietato sputare sui gatti, questa la conclusione dei tacquini. Per un altro verso, quando la sera Tahu rientrava, era sempre certo di imbattersi nella figura scura del portiere di notte, che andava su e giù nella hall. Puntualmente costui ricordava a tutti di avere previsto quel che stava succedendo. A Tahu, che riconosceva di avergli sentito predire una disgrazia, ma che gli rammentava la sua idea di un terremoto, il vecchio portiere rispondeva «Ah, magari fosse un terremoto, una bella scossa e non se ne parla più. Si contano i morti, si contano i vivi e il gioco è fatto. Ma questo schifo di malattia, anche quelli che non ce l'hanno se la portano nel cuore». Non meno preoccupato era il direttore. Nei primi tempi i viaggiatori, non potendo lasciare la città, erano stati costretti dalla chiusura delle porte a prolungare il soggiorno in albergo, ma pian piano, con il protrarsi dell'epidemia, molti avevano preferito trasferirsi a casa di amici. E le ragioni che avevano riempito tutte le stanze dell'albergo erano le stesse che ora le lasciavano vuote, poiché nella nostra città non giungevano più viaggiatori. Tahu restava uno dei rari ospiti e il direttore non perdeva occasione di ricordargli che se non fosse stato per il suo desiderio di mostrare riguardo per gli ultimi clienti, avrebbe chiuso da un pezzo l'hotel. Chiedeva sovente a Tahu qualche previsione sulla probabile durata dell'epidemia. Dicono, osservava Tahu, che il clima freddo può forse contrastare questo genere di malattia. Il direttore si agitava. «Senta, ma qui non fa mai davvero freddo e comunque sia vorrebbe dire che ci toccano ancora un bel po' di mesi». Peraltro era sicuro che i viaggiatori avrebbero continuato a lungo a evitare la città. Quella peste era la rovina del turismo. Al ristorante fu visto ricomparire, dopo una breve assenza, il signor Otan, l'uomo civetta. Seguito però soltanto dai due cagnolini ammaestrati, la moglie, si seppe in seguito, aveva accudito la madre, poi morta, e in questo momento si trovava in quarantena. «Questa cosa non mi piace affatto», disse il direttore a Tahu. «Quarantena o non quarantena, lei è un caso sospetto e di conseguenza lo sono anche loro». Tahu gli ribatteva che tutti da questo punto di vista erano casi sospetti, ma l'altro era categorico e sull'argomento aveva le idee molto chiare. «No, né lei né io siamo casi sospetti, loro sì». Ma a peste o non peste, il signor Otan non cambiava certo le sue abitudini. Entrava allo stesso modo nella sala del ristorante. Si sedeva prima dei figli e continuava a rivolgersi a loro con frasi forbite e ostili. Solo il maschio aveva cambiato aspetto. Vestito di nero come la sorella, un po' più curvo, sembrava la piccola ombra del padre. Il portiere di notte, che non amava Otan, aveva detto a Tahu «Ah, quello creperà vestito di tutto punto, così non ci sarà bisogno di vestizione funebre, se ne andrà dritto filato». Veniva anche menzionata la predica di Panlu, ma con il seguente commento «Capisco questo benevolo ardore, al principio di un flagello e alla fine si fa sempre un po' di retorica. Nel primo caso non si è ancora persa l'abitudine e nel secondo la si è già ritrovata. Solo nel momento della tragedia ci si abitua alla verità, cioè al silenzio. Aspettiamo». Capitolo secondo, parte nona. Per finire, Tahu annotava di aver avuto una lunga conversazione con il dottor Rie, di cui ricordava soltanto che era stata fruttuosa, segnalava il color marrone chiaro degli occhi della madre, dichiarava curiosamente a tal proposito che uno sguardo in cui si leggeva tanta bontà sarebbe stato sempre più forte della peste e dedicava infine lunghi brani al vecchio asmatico curato da Rie. Era andato a casa sua insieme con il dottore dopo il colloquio con quest'ultimo, il vecchio, aveva accolto Tahu ridacchiando e sfregandosi le mani. Era a letto, la schiena appoggiata al guanciale, con le due pentole di piselli in grembo. «Ah, un altro», aveva detto scorgendo Tahu. «È il mondo alla rovescia, più medici che malati, perché va alla svelta quella, eh? Ha ragione il prete, ce lo siamo meritato». L'indomani Tahu era tornato senza preavviso. Stando ai suoi tacquini, il vecchio asmatico di professione merciaio, a 50 anni, aveva ritenuto di aver fatto abbastanza. Si era messo a letto e da allora non si era più alzato. Non era certo la sua asma, peraltro, a costringerlo. Una piccola rendita gli aveva consentito di arrivare serenamente fino ai 75 anni. Poiché non poteva sopportare la vista degli orologi, in tutta la casa non ce n'era neppure uno. «Un orologio», diceva, «è un oggetto costoso e stupido». Calcolava il tempo e soprattutto l'ora dei pasti, che era l'unica che gli importasse, con le sue due pentole, una delle quali al risveglio era piena di piselli. Riempiva l'altra, un pisello alla volta, sempre con lo stesso movimento, attento e costante, e così si regolava, in una giornata misurata a pentole. Ogni quindici pentole, diceva, «devo mangiare, è semplicissimo». A sentire la moglie, peraltro, aveva manifestato sin da giovane i segni della sua vocazione. Non c'era mai stato niente, infatti, che gli interessasse granché, né il lavoro, né gli amici, né il caffè, né la musica, né le donne, né le passeggiate. Non era mai uscito dalla sua città, tranne un giorno, in cui, costretto a recarsi ad Algeri per questioni di famiglia. Era sceso alla prima stazione dopo Orano, incapace di spingere oltre l'avventura. Era tornato indietro, con il primo treno. Ataru, che si era dimostrato stupito della vita reclusa che conduceva, aveva spiegato su per giù che, secondo la religione, la prima metà della vita di un uomo era una scesa e l'altra metà una discesa, che nella discesa l'uomo non possedeva più le proprie giornate, che potevano essergli portate via in qualsiasi momento, che quindi non poteva farne niente e che la cosa migliore era per l'appunto non farne niente. Senza timore di contraddirsi, poco dopo aveva peraltro detto a Ataru che di sicuro Dio non esisteva, poiché altrimenti i preti sarebbero stati inutili. Ma da alcune riflessioni successive, Ataru capì che questa filosofia era indotta dal malumore suscitato in lui dalle frequenti questo e della parrocchia. A completare il ritratto del vecchio c'era poi un auspicio che pareva autentico e che questi fece a più riprese davanti al proprio interlocutore. Sperava di morire molto vecchio. Che sia un santo, si domandava Ataru e rispondeva, sì, se la santità è un insieme di abitudini. Ma nel contempo Ataru offriva una minuziosissima descrizione di una giornata nella città appestata e dava così un'idea precisa delle occupazioni e della vita dei nostri concittadini durante quell'estate. Nessuno ride tranne gli ubriachi, diceva Ataru, e quelli ridono troppo. Poi iniziava la descrizione. All'alba lievi folate percorrono la città ancora deserta. A quest'ora, che sta fra i morti della notte e le agonie della giornata, è come se la peste interrompesse per un momento il proprio lavoro per riprendere fiato. Tutti i negozi sono chiusi. Ma su alcuni il cartello chiuso per peste indica che più tardi non apriranno come gli altri. Strilloni ancora addormentati non annunciano ad alta voce le notizie, ma addossati a un angolo di strada porgono i giornali ai lampioni, con un gesto da sonnambuli. Più tardi, svegliati dai primi tram, si sparpaglieranno per la città, offrendo con il braccio teso i fogli su cui spicca la parola peste. Un autunno all'insegna della peste, il professor B risponde no. 124 morti, il bilancio del 94esimo giorno di peste. Nonostante la penuria di carta che ha costretto alcuni periodici a ridurre il numero di pagine, era nato un altro giornale, il Corriere dell'Epidemia, il cui scopo era informare i nostri concittadini all'insegna della più rigorosa oggettività sull'espansione o la regressione della malattia, fornire loro le opinioni più autorevoli sul futuro dell'epidemia, aprire le sue colonne a chiunque, noto o meno, sia disposto a combattere il flagello, sostenere il morale della popolazione, comunicare le direttive delle autorità e, in sintesi, chiamare a raccolta tutte le persone di buona volontà decise a lottare efficacemente contro il male che oggi ci colpisce. In realtà il giornale si è ben presto limitato a pubblicare annunci di nuovi prodotti, infallibili, per prevenire la peste. Verso le sei del mattino si cominciano a vendere questi giornali alle persone in coda davanti ai negozi, un'ora abbondante prima dell'apertura, quindi sui tram che arrivano stracolmi dai sobborghi. I tram sono diventati ormai l'unico mezzo di trasporto e procedono con gran difficoltà, gremiti fin sui predellini e contro i parapetti. Curiosamente però tutti gli occupanti nei limiti del possibile si danno le spalle per evitare il reciproco contagio. Alle fermate il tram riversa un carico di uomini e di donne impazienti di allontanarsi e di ritrovarsi soli. Spesso scoppiano liti dovute soltanto al malumore che è ormai cronico. Dopo il passaggio dei primi tram la città pian piano si risveglia e cominciano ad aprire le brasserie con i banconi ingombri di avvisi. Abbiamo finito il caffè, si prega di portare con sé lo zucchero eccetera. Poi aprono i negozi, le vie si animano. Intanto la luce diventa più forte e il caldo fa pian piano livido il cielo di luglio. È l'ora in cui quelli che non hanno niente da fare si avventurano sui boulevard. La maggior parte di loro sembra aver deciso di scongiurare la peste con l'ostentazione del lusso. Tutti i giorni verso le undici si assiste sulle arterie principali ad una sfilata di ragazzi e di ragazze in cui si riconosce quella brama di vivere che cresce in seno alle grandi tragedie. Se l'epidemia si estenderà si allargeranno anche i limiti della morale. Rivedremo i saturnali milanesi sull'orlo delle tombe. A mezzogiorno i ristoranti si riempiono in un attimo. Alla porta si formano rapidamente piccoli gruppi di coloro che non sono riusciti a trovare posto. Il cielo comincia a perdere luce per eccesso di caldo. All'ombra dei tendoni, sul ciglio della strada crepitante di sole, i candidati al pranzo aspettano il loro turno. Se i ristoranti sono presi d'assalto è perché semplificano alquanto il problema dell'approvvigionamento, ma lasciano intatta l'angoscia del contagio. I commensali spendono lunghi minuti a sfregare pazientemente le posate. Qualche tempo fa alcuni ristoranti esibivano il cartello «qui i coperti sono disinfettati in acqua bollente». Ma poiché i clienti erano obbligati a venire, hanno via via rinunciato a qualsiasi pubblicità. Il cliente, peraltro, spende volentieri. I vini pregiati o presunti tali, i supplementi più costosi, è l'inizio di una spirale folle. Pare ci siano anche state scene di panico in un ristorante, perché un cliente si era sentito male, era impallidito, si era alzato e aveva raggiunto in fretta l'uscita, barcollando. Verso le due, la città pian piano si svuota, ed è il momento in cui nelle strade si incontrano il silenzio, la polvere, il sole e la peste. Un fiume di caldo scorre inarrestabile lungo gli alti edifici grigi. Quelle lunghe ore prigioniere finiscono con sere infiammate che piombano sulla città gremita e vociante. Nei primi giorni di caldo, senza che si sapesse perché, le sere erano diventate via via più deserte. Ma adesso, il primo accenno di frescura porta sollievo, se non speranza. Tutti allora si riversano in strada, parlano fino a stordirsi, bisticciano o si desiderano, e sotto il cielo rosso di luglio, la città piena di coppie ed i clamori scivola verso la notte palpitante. In vano, tutte le sere sui boulevard, un vecchio ispirato, con cappello e cravatta a fiocco, attraversa la folla ripetendo senza sosta, Dio è grande, venite a Lui. Tutti invece si precipitano verso qualcosa che conoscono poco, o che sembra loro più urgente di Dio. All'inizio, quando credevano che fosse una malattia come le altre, la religione era al suo posto, ma quando hanno capito che era una cosa seria, si sono ricordati del piacere. Tutta l'angoscia che durante il giorno è dipinta sui volti, si risolve allora nel crepuscolo ardente e polveroso, in una specie di eccitazione stranita, una libertà maldestra, che infiamma un intero popolo. E anch'io sono come loro. Ma no, la morte non è niente per gli uomini come me. È un accadimento che dà loro ragione. Capitolo secondo, parte decima. Era stato Tarou a chiedere a Rie l'incontro menzionato nei tacquini. La sera in cui lo aspettava, in effetti il dottor Rie guardava la madre, seduta tranquilla su una sedia, in un angolo della sala da pranzo. Lì passava le giornate quando non era alle prese con le faccende domestiche. Aspettava con le mani raccolte in grembo. Rie non era nemmeno sicuro che aspettasse lui. Eppure, quando compariva, qualcosa cambiava nel volto della madre. Tutto il mutismo impressovi dalla sua vita operosa sembrava allora animarsi. Dopodiché ripiombava nel silenzio. Quella sera guardava dalla finestra la via ormai deserta. L'illuminazione notturna era stata ridotta di due terzi. E qua e là, una luce debolissima metteva qualche riverbero nelle ombre della città. Avremo l'illuminazione ridotta per tutta la peste, disse la signora Rie. Probabilmente sì. Purché non vada avanti fino all'inverno, perché allora sarebbe triste. Sì, disse Rie. Vide lo sguardo della madre posarsi sulla sua fronte. Sapeva di avere il viso segnato per la preoccupazione e il carico di lavoro degli ultimi giorni. Giornata difficile oggi, disse la signora Rie. Ma, come al solito, come al solito, significava che il nuovo siero mandato da Parigi con ogni probabilità era meno efficace del precedente e i numeri crescevano. La somministrazione dei sieri preventivi continuava ad essere riservata alle sole famiglie già colpite. Per generalizzarne l'impiego ce ne sarebbero volute quantità industriali. La maggior parte dei buboni non venivano a suppurazione, quasi fossero entrati nella fase dell'indurimento e straziavano i malati. Il giorno precedente erano comparsi in città due casi di una forma nuova dell'epidemia. La peste diventava polmonare. Il giorno stesso, nel corso di una riunione, i medici allo stremo avevano chiesto e ottenuto da un prefetto disorientato nuove misure per evitare il contagio, che nella peste polmonare avveniva per via aerea. Come al solito, nessuno sapeva niente. Guardò la madre. Il bello sguardo marrone fece affiorare in lui anni di affetto. Hai paura, mamma? Alla mia età ormai c'è poco da a temere. Le giornate sono lunghe e ultimamente non sono mai a casa. Non mi importa di aspettare se so che prima o poi arrivi e quando non ci sei penso a quello che fai. Hai notizie? Sì, tutto bene stando all'ultimo telegramma, ma so che lo dice per tranquillizzarmi. Suonarono alla porta. Il dottore sorrise alla madre e andò ad aprire. Nella penombra del pianerottolo, Tarou pareva un grande orso vestito di grigio. Rie fece sedere l'ospite davanti alla sua scrivania. Lui rimaneva in piedi dietro la sua poltrona. A separarli c'era l'unica lampada accesa nella stanza, sulla scrivania. So che con lei posso parlare chiaro, disse Tarou senza preamboli. Rie annui in silenzio. Tra quindici giorni o un mese lei non sarà più di alcuna utilità. Ormai è completamente sopraffatto dalla situazione. È vero, disse Rie. L'organizzazione del servizio sanitario non funziona. Le mancano uomini e tempo. Rie riconobbe che anche questo era vero. Ho saputo che la prefettura intende creare una specie di servizio civile per costringere gli uomini validi a partecipare alle operazioni di soccorso. È bene informato, ma c'è già molto scontento e il prefetto tentenna. Perché non rivolgersi a dei volontari? L'hanno fatto ma i risultati sono stati deludenti. L'hanno fatto per via ufficiale senza nemmeno crederci troppo. Sono privi di immaginazione. Non sono mai all'altezza dei flagelli loro e immaginano soluzioni che sono buone a stento ad affrontare un raffreddore. Se li lasciamo fare moriranno e noi con loro. Probabile, disse Rie. A dire il vero, però, hanno pensato anche ai carcerati per quello che potremmo definire il lavoro grosso. Preferirei degli uomini liberi. Anch'io, ma perché alla fin fine? Ho orrore delle condanne a morte. Rie guardò Tarou. Allora, disse. Allora ho un piano per organizzare delle formazioni sanitarie volontarie. Lei mi dia l'autorizzazione e lasciamo da parte le istituzioni, che comunque sono oberate. Ho amici un po' dappertutto e saranno loro a costruire il primo nucleo. E naturalmente anch'io ne farò parte. Non c'è bisogno che le dica che accetto con gioia, disse Rie. Di aiuto c'è sempre bisogno, specie in questo mestiere. Penserò io a convincere la prefettura. Del resto non hanno scelta, ma Rie riflette. Ma in questo lavoro si rischia la vita, lo sa. In ogni caso devo avvisarla. Ci ha riflettuto bene? Tarou lo guardava con i suoi occhi grigi. Cosa ne pensa della predica di Panlu, dottore? Aveva posto la domanda con naturalezza. E con naturalezza Rie rispose. Ho vissuto troppo negli ospedali perché possa piacermi l'idea di una punizione collettiva. Ma sa, a volte i cristiani parlano così anche se non lo pensano davvero. Sono migliori di quei che sembrano. E tuttavia lei ritiene come Panlu che la peste abbia una sua bontà, che apra gli occhi, che costringa a pensare. Il dottore scosse la testa con impazienza. Come tutte le malattie di questo mondo, quel che vale per i mali di questo mondo vale anche per la peste. In qualche caso l'uomo può uscirne elevato, però quando si vedono la miseria e il dolore che porta, bisogna essere pazzi, ciechi o vigliacchi per rassegnarsi alla peste. Rie aveva alzato appena il tono di voce, ma Tarou fece un gesto della mano come per calmarlo. Sorrideva. Sì, disse Rie alzando le spalle. Ma non mi ha risposto. Ci ha riflettuto. Tarou si sistemò un po' nella poltrona e protese la testa nella luce. Lei, dottore, crede in Dio? Di nuovo aveva posto la domanda con naturalezza, ma questa volta Rie esitò. No, ma a che c'entra? Sono nelle tenebre e cerco di vederci chiaro. Ho smesso da un pezzo di trovarlo qualcosa di originale. Non è forse questo a distinguerla da Panlu? Non credo. Panlu è uno studioso. Non ha visto morire a sufficienza e per questo parla in nome di una verità. Ma qualsiasi oscuro prete di campagna che dà l'estrema unzione ai suoi parrocchiani e che ha sentito il respiro di un moribondo. La pensa come me. Lenirebbe la sofferenza prima di volerne dimostrare la nobiltà. Rie si alzò. Adesso il suo volto era in ombra. Lasciamo perdere, disse, visto che non vuole rispondere. Tarou sorrise senza muoversi dalla poltrona. Posso rispondere con una domanda? Il dottore a sua volta sorrise. Le piace il mistero? Disse. Prego. Sì, disse Tarou. Come mai si prodiga così tanto visto che non crede in Dio? Forse la sua risposta mi aiuterà a rispondere. Senza uscire dall'ombra, il dottore disse che aveva già risposto, che se avesse creduto in un Dio onnipotente avrebbe smesso di guarire gli uomini, lasciando il compito a lui. Ma che nessuno al mondo, no, nemmeno Panlu, che credeva di crederci, credeva in un Dio del genere, poiché nessuno si abbandonava totalmente, e almeno in questo lui, Rie, pensava di essere sulla via della verità, lottando contro la creazione quale era. Ah, disse Tarou, è questa l'idea che si fa del suo lavoro? Più o meno, rispose il dottore, passando nella luce. Tarou fece un fischio e il dottore lo guardò. Sì, disse, penserà che ci vuole un bel po' di orgoglio, ma le assicuro che ho soltanto quel minimo di orgoglio necessario. Non so cosa mi aspetta né cosa succederà dopo tutto questo. Per ora ci sono dei malati e bisogna guarirli, dopodiché rifletteranno, e io con loro, ma la cosa più urgente è curarli. Li difendo come posso, tutto qua. Da cosa? Rie si voltò verso la finestra, indovinava in lontananza il mare da una densità più scura dell'orizzonte. Si sentiva sopraffatto dalla stanchezza, e intanto lottava contro un desiderio improvviso e irragionevole di aprirsi un po' di più con quell'uomo singolare, che pure sentiva fraterno. Non lo so, Tarou, le assicuro che non lo so. Quando ho scelto questo mestiere, l'ho fatto per certi versi in maniera astratta perché ne avevo bisogno, perché era un lavoro come un altro, uno di quei lavori che si hanno in mente da ragazzi, forse anche perché era difficile per un figlio di operai come me. Poi mi è toccato veder morire. Lo sa che ci sono persone che si rifiutano di morire. Ha mai sentito una donna gridare, mai e poi mai, al momento di morire? Io sì, e allora mi sono accorto che non riuscivo ad abituarmici. Ero giovane, e credevo che la mia avversione fosse rivolta contro l'ordine stesso del mondo. Dopo sono diventato più modesto. Semplicemente non mi sono ancora abituato a veder morire. Non so altro, ma in fondo. Rie tacque e si sedette. Si sentiva la bocca secca. In fondo, disse piano Tarou. In fondo, riprese il dottore, poi esitò ancora guardando Tarou con attenzione. È una cosa che un uomo come lei capirà senz'altro, ma poiché l'ordine del mondo è regolato dalla morte, forse è meglio per Dio se non crediamo in Lui e lottiamo con ogni forza contro la morte, senza alzare gli occhi verso il cielo, dove Lui tace. Sì, approvò Tarou. Capisco bene, ma resta il fatto che le sue vittorie saranno sempre provvisorie. Rie parve incupirsi. Sempre, lo so, non è un buon motivo per smettere di lottare. No, non è un buon motivo, ma allora immagino cosa debba essere questa peste per lei. Sì, disse Rie, un'interminabile sconfitta. Tarou fissò un momento il dottore, poi si alzò e si diresse con passo pesante verso la porta, e Rie lo seguì. Lo aveva quasi raggiunto quando Tarou, che sembrava guardare per terra, gli disse, chi le ha insegnato tutto questo, dottore? La risposta venne immediata. La miseria. Rie aprì la porta dello studio e nel corridoio disse a Tarou che scendeva anche lui, andava a visitare un paziente nei soborghi. Tarou gli propose di accompagnarlo e il dottore accettò. In fondo al corridoio incontrarono la signora Rie, a cui il dottore presentò Tarou. Un amico, disse. Oh, fece la signora Rie, mi fa molto piacere conoscerla. Quando si allontanò, Tarou si voltò ancora verso di lei. Sul pianerottolo il dottore premette in vano l'interruttore a tempo. Le scale restavano immerse nel buio. Il dottore si domandava se fosse il risultato di una nuova misura di risparmio, ma non si poteva sapere. Da qualche tempo, ormai, tutto si guastava nelle case e in città. Forse, semplicemente, i portinai e i nostri concittadini in generale non si prendevano più cura di nulla. Ma il dottore non ebbe tempo di farsi altre domande, poiché dietro di lui riecheggiava la voce di Tarou. Un'altra cosa, dottore, anche se le sembra ridicolo, lei ha ragione. Rie alzò le spalle tra sé nel buio. Non lo so davvero, ma lei invece cosa ne sa? Oh, disse l'altro, senza scomporsi, io non ho molto da imparare. Il dottore si fermò e il piede di Tarou dietro di lui scivolò su uno scalino. Tarou si aggrappò alla spalla di Rie. Crede di conoscere tutto della vita? Domandò questi. La risposta giunse nel buio, portata dalla stessa voce tranquilla. Sì. Quando sbucarono in strada si resero conto che era molto tardi, forse le undici. La città era muta, popolata soltanto di fruscii. In lontananza riecheggiò la sirena di un'ambulanza. Salirono in auto e Rie avviò il motore. Domattina venga in ospedale, disse, per il vaccino preventivo, ma per concludere e prima di entrare in questa storia, sappia che ha una probabilità su tre di cavarsela. Questi calcoli non hanno senso, dottore, lo sa meglio di me. Cento anni fa un'epidemia di peste ha ucciso tutti gli abitanti di una città della Persia, tranne, precisamente, il lavatore di morti, che non aveva mai smesso di fare il suo lavoro. Gli è toccata la probabilità su tre, tutto qui, disse Rie con voce ed un tratto più sorda. Ma è vero che su questo argomento abbiamo ancora tutto da imparare. Adesso entravano nei soborghi. I fari illuminavano le vie deserte. Si fermarono. Davanti all'auto, Rie domandò a Tarou se voleva entrare e l'altro disse di sì. Un riflesso del cielo rischiarava i loro volti. Rie ebbe tutta un tratto un riso amichevole. Insomma, Tarou, disse, che cosa la spinge a farlo? Non lo so, la mia morale forse. E quale sarebbe? La comprensione. Tarou si diresse verso la casa e Rie non vide più il suo volto finché non furono nell'appartamento del vecchio asmatico. Capitolo secondo, parte undicesima. L'indomani Tarou si mise al lavoro e formò una prima squadra che doveva poi essere seguita da molte altre. Non è però intenzione del narratore attribuire a queste formazioni sanitarie più importanza di quanta ne ebbero. È pur vero che oggi, al suo posto, molti concittadini sarebbero inclini a sopravvalutarne il ruolo, ma il narratore è propenso a credere che, dando troppa importanza alle belle azioni, si finisce col rendere un indiretto omaggio al male. Così facendo, si suggerisce infatti che le belle azioni hanno tanto più valore perché sono rare e che la malvagità e l'indifferenza sono motivazioni ben più frequenti delle azioni umane. È un'idea che il narratore non condivide. Il male presente nel mondo viene quasi sempre dall'ignoranza e la buona volontà, se non è illuminata, può fare altrettanti danni della malvagità. Gli uomini sono più buoni che cattivi e in realtà il problema non è questo, ma sono più o meno ignari e questo è ciò che chiamiamo virtù o vizio, dove il vizio più desolante è l'ignoranza che crede di sapere tutto e si concede per questo il diritto di uccidere. L'anima dell'assassino è cieca e non c'è vera bontà né vero amore senza tutta la chiaroveggenza possibile. Per questo le nostre formazioni sanitarie messe in piedi grazie a Tarou devono essere giudicate con contenuta soddisfazione. Per questo il narratore non intende farsi il cantore troppo eloquente della forza di volontà e di un eroismo cui attribuisce solo una importanza relativa, ma continuerà ad essere lo storico dei cuori straziati ed esigenti che la peste diede allora a tutti i nostri concittadini. Coloro che si prodigarono nelle formazioni sanitarie non ebbero in effetti un così grande merito, poiché sapevano che era l'unica cosa da fare e non farlo, semmai, sarebbe stato inimmaginabile. Le formazioni aiutarono i nostri concittadini a entrare più addentro nella peste e li convinsero in parte che dal momento che la malattia c'era occorreva fare il necessario per combatterla, sicché la peste diventata l'impegno di alcuni apparve realmente per ciò che era, qualcosa che riguardava tutti. Questo è un bene, ma nessuno si congratula con un maestro perché insegna che due più due fa quattro, tutt'al più si congratula con lui perché ha scelto quel bel mestiere. Diciamo quindi che era lodevole che Taru e altri avessero scelto di dimostrare che due più due fa quattro e non il contrario, ma diciamo anche che la loro buona volontà era la stessa del maestro e di tutti quelli che hanno il cuore del maestro e che a gloria dell'uomo sono più numerosi di quanto si pensi o almeno tale è la convinzione del narratore. Costui prevede d'altra parte l'obiezione che gli si potrebbe rivolgere e cioè che quegli uomini rischiavano la vita, ma nella storia arriva sempre il momento in cui chi osa dire che due più due fa quattro viene punito con la morte. Il maestro lo sa bene e il problema non è sapere qual è la ricompensa o la punizione che spetterà per questo ragionamento. Il problema è sapere se due più due sì o no fa quattro. I nostri concittadini che all'epoca rischiavano la vita dovevano decidere se erano o non erano nella peste e se dovevano o non dovevano combatterla. Nella nostra città spuntavano allora molti nuovi moralisti i quali andavano dicendo che era tutto inutile e che bisognava mettersi in ginocchio e qualunque cosa Taru e Rie e i loro amici potessero rispondere la conclusione la sapevano già. In una maniera o nell'altra bisognava lottare e non mettersi in ginocchio. L'essenziale era cercare di impedire al maggior numero possibile di uomini di morire e di conoscere la separazione definitiva e il solo modo per farlo era combattere la peste. Non era una verità grandiosa era solo una verità coerente. Per questo era naturale che il vecchio castello mettesse tutta la sua fiducia e la sua energia nel tentativo di creare dei sieri sul posto con materiale di fortuna. Lui e Rie speravano che un siero creato con le colture del microbo che infestava la città sarebbe stato più efficace dei sieri venuti da fuori dal momento che il microbo differiva leggermente dalla descrizione classica del bacillo della peste. Castel sperava di avere il primo siero in tempi molto rapidi. Per questo era altrettanto naturale che Grand, il quale non aveva niente dell'eroe, avesse assunto su per giù il ruolo di segretario delle formazioni sanitarie. Una parte delle squadre costituite da Tarou svolgeva infatti opera di assistenza preventiva nei quartieri sovrappopolati. Tentavano di introdurvi alcune elementari regole di igiene, censivano i solai e le cantine che non avevano subito la disinfestazione. Un'altra parte delle squadre affiancava i medici nelle visite a domicilio, si occupava del trasporto dei malati di peste e in seguito, in mancanza di personale specializzato, condusse anche i veicoli dei malati e dei morti. Tutto ciò richiedeva un lavoro di registrazione e di statistiche e Grand aveva accettato di svolgerlo. In questo senso il narratore ritiene che fosse proprio Grand, più ancora di Rie e Tarou, a rappresentare al meglio la virtù tranquilla che animava le formazioni sanitarie. Aveva accettato senza esitare, con la buona volontà che gli era propria. Si era soltanto limitato a chiedere che gli fossero affidati lavori poco gravosi, per tutto il resto era troppo vecchio. Tra le sei e le otto di sera aveva messo a disposizione il suo tempo e quando Rie lo ringraziava calorosamente lui si mostrava stupito. «E che sarà mai? C'è la peste! È ovvio che bisogna difendersi! Ah, se tutto fosse così semplice!» E tornava alla sua frase. Qualche volta, la sera finito il lavoro delle schede, Rie chiacchierava con Grand. Pian piano aveva coinvolto anche Tarou nelle loro conversazioni e Grand si confidava ai due amici con un piacere sempre più evidente. Questi seguivano con interesse il lavoro paziente che Grand continuava nonostante la peste. Anche loro, in fondo, trovavano in esso una specie di tregua. «Come va l'amazzone?» domandava spesso Tarou. E Grand invariabilmente rispondeva «Eh, trotta, trotta!» con un sorriso difficile. Una sera Grand disse che aveva deciso di abbandonare l'aggettivo «leggiadra» e che ormai aveva deciso di qualificare la sua amazzone come «svelta». «È più concreto», aveva aggiunto. Un'altra volta lesse ai due ascoltatori la prima frase così modificata. «In una bella mattina di maggio una svelta amazzone percorreva in sella ad una splendida giumenta saura i viali fioriti del Bois de Boulogne. La si vede meglio, no?» disse Grand. «E ho preferito mattina di maggio perché del mese di maggio allungava un po' il trotto». Si mostrò poi alquanto impensierito dall'aggettivo «splendida». Secondo lui non calzava e cercava la parola che avrebbe fotografato alla perfezione la meravigliosa giumenta che aveva in testa. Robusta non andava bene, era concreto ma un po' spregiativo. Per qualche tempo era stato tentato da fulgida, ma il ritmo non funzionava. Una sera annunciò trionfalmente di aver trovato una nera giumenta saura. Il nero suggeriva anche l'eleganza, aggiungeva. «Non va bene», disse Rieu. «E perché?» Saura non indica la razza ma il colore. «Che colore?» «Beh, un colore che in ogni caso non è il nero». Grand parve affranto. «Grazie», diceva. «Meno male che ci siete voi, ma vedete com'è difficile». «Cosa ne direbbe di sontuosa», disse Tarou. Grand lo guardò, rifletteva. «Sì», disse. «Sì, sì», e un sorriso affiorava piano. Di lì a qualche tempo confessò di avere un po' di riserve sulla parola «fioriti». Poiché conosceva solo Orano e Montlimar, a volte chiedeva agli amici ragguagli sui fiori dei vialetti del Bois di Algeri. A dire il vero, Henriet e Tarou non era mai parso che fossero fioriti, ma la sicurezza dell'impiegato li faceva tentennare. Lui era stupito della loro titubanza. Solo gli artisti sanno davvero guardare. Ma un giorno il dottore lo trovò in uno stato di grande eccitazione. Aveva cambiato fioriti con pieni di fiori. Si sfregava le mani. «Finalmente si vedono, si sentono, tanto di cappello, signori miei», lesse trionfalmente la frase. «In una bella mattina di maggio una svelta amazzone percorreva in sella una sontuosa giumenta saura i viali pieni di fiori del Bois de Boulogne». Ma, letti a voce alta, i tre complementi di specificazione, uno in fila all'altro, che chiudevano la frase, suonarono sgraziati e Grand balbettò un po'. Si sedette con l'aria affranta, poi chiese al dottore il permesso di andare. Aveva bisogno di riflettere un po'. Proprio in quel periodo, si seppe poi, diede sul lavoro alcuni segni di distrazione, giudicati degni di biasimo in un periodo in cui il comune doveva affrontare con personale ridotto incombenze gravose. Il suo ufficio ne risentì e il superiore lo rimproverò aspramente, rammentandogli che era pagato per svolgere un lavoro che nella fattispecie non svolgeva. «Mi risulta», aveva detto il capufficio, «che lei presta servizio volontario nelle formazioni sanitarie, fuori dall'orario di lavoro. Non è affar mio, ma il suo lavoro lo è, e il modo migliore per rendersi utile in queste terribili circostanze è fare bene il proprio lavoro. Il resto, altrimenti, non serve a niente». «Ha ragione», disse Grand-Auillet. «Sì, ha ragione», approvò il dottore. «Ma sono distratto e non so come risolvere la fine della frase». Aveva pensato di sopprimere de Boulogne, convinto che tutti avrebbero capito, ma allora la frase sembrava collegare a fiori ciò che in realtà si collegava a viali. Aveva anche valutato la possibilità di scrivere i viali del Bois pieni di fiori, ma la collocazione di Bois tra un sostantivo e un aggettivo che venivano in tal modo arbitrariamente separati era per lui una spina nel fianco. Certe sere, in effetti, aveva l'aria ancora più stanca di Rieu. Sì, era stanco per quella ricerca che lo assorbiva interamente, e tuttavia continuava a fare le somme e le statistiche che servivano alle formazioni sanitarie. Pazientemente, tutte le sere, riordinava un po' di schede, vi aggiungeva qualche curva e si sforzava via via di presentare resoconti il più possibile precisi. Sovente raggiungeva Rieu in uno degli ospedali e gli chiedeva un tavolo in un ufficio o in un'infermeria. Si sedeva lì con le sue carte, proprio come sedeva alla scrivania in comune, e nell'aria densa di disinfettanti e della malattia stessa agitava i suoi fogli per fare asciugare l'inchiostro. Cercava allora onestamente di non pensare più alla sua amazzone e di fare solo quel che doveva fare. Sì, se è vero che gli uomini sono inclini a proporsi esempi e modelli che chiamano eroi, e se in questa storia deve assolutamente essercene uno, il narratore propone per l'appunto questo eroe insignificante e scialbo, che aveva dalla sua solo un po' di bontà d'animo e un ideale all'apparenza ridicolo. Ciò darà alla verità il tributo che le spetta, alla somma di due più due il suo totale di quattro, e all'eroismo il posto secondario che deve occupare, appena dopo e mai prima, l'urgenza generosa della felicità. Ciò darà inoltre a questa cronaca il suo carattere, che deve essere quello di una relazione fatta con buoni sentimenti, cioè sentimenti che non sono né ostentatamente cattivi né esaltanti alla maniera volgare di uno spettacolo. Questa, perlomeno, era l'opinione del dottor Rie, quando leggeva sui giornali o ascoltava alla radio gli appelli e i sostegni che il mondo esterno faceva giungere alla città appestata. Insieme ai soccorsi inviati per via aerea o via terra, tutte le sere, sulle onde radio o sulla carta stampata, piombavano sulla città ormai solitaria commenti colmi di pietà o di ammirazione, e il tono da epopea o da comio puntualmente irritava il dottore. Lui sapeva, certo, che quella sollecitudine non era fasulla, ma poteva esprimersi solo nel linguaggio stereotipato con cui gli uomini provano a dire ciò che li lega all'umanità. Ed era un linguaggio che non poteva applicarsi, per esempio, ai piccoli sforzi quotidiani di Grand, un linguaggio che non poteva rendere conto di che cosa significava Grand nel bel mezzo della peste. A volte a mezzanotte, nel gran silenzio della città ora deserta, al momento di coricarsi per un sonno troppo breve, il dottore girava la manopola della radio. E dai confini del mondo, attraverso migliaia di chilometri, voci sconosciute e fraterne provavano goffamente a dire la loro solidarietà, e la dicevano, infatti, ma dimostravano anche la terribile impotenza di ogni uomo nel condividere davvero una sofferenza che non può vedere. Orano, Orano! In vano l'appello attraversava i mari, in vano rie ascoltava attento. Ben presto l'eloquenza cresceva, sottolineando ancor più l'intrinseca distanza, che faceva di Grand e dell'oratore due estranei. Orano, sì, Orano! Ma no, pensava il dottore, non c'è altra risorsa che amare o morire insieme, e loro sono troppo lontani. Capitolo secondo, parte dodicesima. E quel che resta infatti da riferire, prima di giungere al culmine della peste, mentre il flagello radunava le forze per scagliarle sulla città e impadronirsene una volta per tutte, sono i lunghi sforzi disperati e monotoni che alcuni individui come Rambert facevano ancora per ritrovare la felicità e sottrarre alla peste quella parte di se stessi che estrenuamente difendevano. Era il loro modo di rifiutare l'asservimento che li minacciava, e benché all'apparenza quel rifiuto non fosse efficace quanto l'altro, è opinione del narratore che avesse comunque un senso, eppur nella sua vanità e con le sue contraddizioni, fosse la testimonianza di quanto allora c'era di nobile in ciascuno di noi. Rambert lottava per non essere sommerso dalla peste. Avendo appurato di non poter uscire legalmente dalla città, aveva detto a Vier, era deciso a tentare altre vie. Il giornalista cominciò dai camerieri dei caffè. Un cameriere è sempre al corrente di tutto, ma i primi cui si rivolse erano soprattutto al corrente delle gravissime sanzioni previste per simili imprese. In un caso fu addirittura scambiato per un provocatore. Riuscì a fare qualche passo avanti solo quando incontrò Cotard. In quel frangente lui e Rie avevano parlato ancora delle trafile inutili che il giornalista aveva tentato negli uffici pubblici. Di lì a qualche giorno Cotard incontrò per strada Rambert e lo salutò con l'affabilità che ora metteva in tutti i rapporti. «Ancora niente?» aveva detto. «No, niente. Gli uffici è meglio lasciarli perdere, tanto non danno retta a nessuno». «È vero, infatti sto cercando altre strade, però è difficile». «Ah», disse Cotard, «capisco». Conosceva un certo giro lui e a un Rambert attonito spiegò che da tempo frequentava tutti i caffè di Orano, che lì aveva degli amici e sapeva dell'esistenza di un'organizzazione che si occupava di operazioni del genere. La verità era che Cotard, le cui uscite superavano ormai le entrate, si era messo a fare contrabbando di prodotti razionati. Così vendeva sigarette e alcolici scadenti i cui prezzi in continua ascesa gli stavano fruttando una piccola fortuna. «Ne è proprio sicuro?» domandò Rambert. «Sì, anche perché me l'hanno proposto». «E non ne ha approfittato». «Si fidi», disse Cotard in tono bonario. «Non ne ho approfittato perché io di andarmene non ho nessuna voglia e ho i miei buoni motivi». Aggiunse dopo una pausa. «Non mi chiede quali sono i miei motivi?» «Immagino che non siano affar mio», disse Rambert. «In un certo senso, in effetti, non sono affar suo, ma da un altro punto di vista. Insomma, quel che è sicuro è che mi trovo molto meglio qui, da quando abbiamo la peste». L'altro ascoltò il suo discorso. «Come si fa a entrare in contatto con questa organizzazione?» «Ah», disse Cotard, «non è facile, venga con me». Erano le quattro del pomeriggio. La città cuoceva a fuoco lento sotto un cielo opprimente. Tutti i negozi avevano i tendoni abbassati. Le strade erano deserte. Cotard e Rambert presero alcune vie con i portici e camminarono a lungo, senza parlare. Era una di quelle ore in cui la peste diventava invisibile. Il silenzio, la morte dei colori e dei movimenti, potevano essere quelli dell'estate come del flagello. Non si capiva se l'aria era densa di minacce o di polvere e di calore. Per cogliere i segni della peste bisognava osservare e riflettere, poiché si rivelava solo da indizi negativi. Cotard, che con essa aveva qualche affinità, fece per esempio notare a Rambert l'assenza di cani, che a rigor di logica avrebbero dovuto essere estremati e ansimanti in cerca di una impossibile frescura davanti agli androni delle case. Presero Boulevard des Palmières, attraversarono la Place d'Armes e scesero verso il quartiere della Marine. A sinistra un caffè dipinto di verde era riparato da un tendone obliquo di tela gialla. Cotard e Rambert entrarono asciugandosi la fronte, sedettero su sedie pieghevoli da giardino davanti a tavoli di metallo verdi. La sala era completamente deserta. Qualche mosca sfrigolava nell'aria, in una gabbia gialla posata sul bancone traballante, un pappagallo con le piume molli se ne stava a moscio sul suo trespolo. Alla parete erano appesi vecchi quadri di scene di guerra, coperti di sporcizia e di spessi fili di ragnatele. Su tutti i tavolini di metallo e davanti allo stesso Rambert c'erano escrementi secchi di gallina, di cui costui aveva difficoltà a spiegarsi l'origine finché, dopo un po' di trambusto, da un angolo buio non sbucò saltellando un magnifico gallo. In quel momento il caldo parve aumentare ancora. Cotard si tolse la giacca e batté sul tavolo. Dal fondo della sala spuntò un ometto perso in un lungo grembiule azzurro, che salutò Cotard da lontano appena lo vide, si avvicinò scostando il gallo con un'energica pedata e domandò in mezzo al chiocciare del volatile cosa gradivano i signori. Cotard ordinò del vino bianco e chiese di un tale Garzia. Il nano disse che erano già un po' di giorni che non lo si vedeva nel caffè. «Secondo lei stasera verrà?» «Eh», fece l'altro, «mica sono nella sua testa, ma li conosce i suoi orari?» «Sì, ma non è così importante, devo solo presentargli un amico». Il cameriere si asciugava le mani umide sul davanti del grembiule. «Ah, anche il signore si occupa di affari?» «Sì», disse Cotard. Il nano tirò su con il naso. «Allora ripassate stasera, mando il ragazzo ad avvisarlo». Mentre uscivano, Rambert domandò di quali affari si trattasse. «Di contrabbando, ovvio. Fanno passare della merce alle porte della città e la vendono a caro prezzo». «Capisco», disse Rambert. «Hanno dei complici?» «Esatto». La sera il tendone era sollevato, il pappagallo parlottava nella sua gabbia e attorno ai tavoli di metallo sedevano uomini in maniche di camicia. Uno di loro, con il cappello di paglia sollevato sul capo, una camicia bianca aperta sul petto color terra bruciata, si alzò quando Cotard entrò. Aveva un viso regolare dalla carnagione scura, gli occhi neri e piccoli, i denti bianchi, due o tre anelli alle dita e dimostrava l'incirca trent'anni. «Salve», disse, «Beviamo qualcosa al banco». Ordinarono tre giri in silenzio. «Che ne dite se usciamo?» fece allora Garzia. Scesero verso il porto e Garzia domandò cosa volevano. Cotard gli disse che voleva presentargli Rambert non per affari, ma solo per quella che chiamò un'uscita. Garzia camminava dritto davanti a lui fumando. Fece alcune domande dicendo lui, per riferirsi a Rambert, quasi ignorasse la sua presenza. «Per quale motivo?» diceva. «A la moglie in Francia». «Ah!» E dopo una pausa, «cosa fa di lavoro?» «Il giornalista». «È un lavoro dove si parla molto». Rambert taceva. «È un amico», disse Cotard. Camminarono in silenzio. Erano arrivati al lungomare, il cui accesso era impedito da grandi cancellate, ma si diressero verso un piccolo chiosco che vendeva sardine fritte, il cui odore giungeva fino a loro. «Comunque io posso farci ben poco», concluse Garzia. «Semmai è una cosa per Raúl. Bisogna però che lo rintracci e non sarà facile». «Perché si nasconde?» domandò Cotard con foga. Garzia non rispose. Nei pressi del chiosco si fermò e per la prima volta si rivolse a Rambert. Dopodomani alle undici, all'angolo della caserma della Dogana, nella città alta. Fece per andarsene, poi si voltò verso i due uomini. «Ci saranno delle spese», disse. Era una constatazione. «Certo», approvò Rambert. Poco dopo, il giornalista ringraziò Cotard. «Oh, ma non c'è di che», disse l'altro in tono gioviale. «Mi fa piacere darle una mano e poi lei è giornalista. Una volta o l'altra mi ricambierà il favore». Due giorni dopo, Rambert e Cotard risalivano le ampie vie prive di ombra che conducono alla città alta. Parte della caserma della Dogana era stata trasformata in infermeria e davanti al grande portone stazionavano molte persone, giunte nella speranza di una visita che non sarebbe stata autorizzata o in cerca di informazioni che nel giro di un'ora sarebbero state superate. Quella ressa creava tuttavia un gran via vai di gente ed era verosimile che tale considerazione non fosse estranea alle modalità dell'incontro fra Garcia e Rambert. «È proprio strana questa fissa di partire», disse Cotard. «In fondo quel che succede è parecchio interessante». «Non per me», rispose Rambert. «Sì, certo, qualcosa si rischia, ma dopo tutto prima della peste si correva lo stesso rischio attraversando un incrocio molto frequentato». In quel momento si fermò accanto a loro l'auto di Rie. Al volante era Tarou e Rie pareva mezzo addormentato. Si svegliò per fare le presentazioni. «Ci conosciamo», disse Tarou, «abitiamo nello stesso albergo». Propose a Rambert di accompagnarlo in centro. «No, abbiamo un appuntamento qui». Rie guardò Rambert. «Sì», fece questi. «Ah», fece Cotard stupito, «il dottore al corrente». «Ecco il giudice istruttore», avvertì Tarou guardando Cotard. Costui cambiò faccia. Nella stessa via veniva infatti verso di loro, con passo energico ma misurato, il signor Otan. Passando davanti al gruppetto si levò il cappello. «Buongiorno, signor giudice», disse Tarou. Il giudice ricambiò il saluto agli occupanti dell'auto, poi guardò Cotard e Rambert, che erano rimasti indietro, e rivolse loro un cenno compito del capo. Tarou presentò Cotard e il giornalista. Il giudice guardò un istante il cielo e sospirò, dicendo che quella era un'epoca proprio triste. «Ho saputo, signor Tarou, che si occupa di far applicare le misure di profilassi a tutta la mia approvazione. Lei, dottore, pensa che la malattia si estenderà?» Rie disse che bisognava sperare di no, e il giudice ripeté che bisognava sempre sperare. I disegni della provvidenza sono imperscrutabili. Tarou gli domandò se i recenti avvenimenti gli avevano procurato un sovraccarico di lavoro. «No, al contrario, le cause che chiamiamo di diritto comune diminuiscono. Ormai devo istruire solo cause per gravi infrazioni alle nuove disposizioni. Non si sono mai rispettate così tanto le vecchie leggi, perché al confronto indubbiamente sembrano miti», disse Tarou. Il giudice abbandonò l'aria sognante che aveva assunto, lo sguardo come appeso al cielo, e scrutò con freddezza Tarou. «Non c'entra nulla», disse. «Quel che conta non è la legge, è la condanna. Non possiamo farci niente». «Quello», disse Cotard, quando il giudice se ne fu andato, «è il nemico numero uno». L'auto partì. Dopo un po', Rambert e Cotard videro arrivare Garzia. Veniva verso di loro senza fare alcun cenno e a mo' di saluto disse «C'è da aspettare». La folla che li circondava, costituita in larga misura da donne, aspettava in un silenzio assoluto. Portavano quasi tutte cesti che speravano vanamente di far giungere ai parenti malati, con l'idea ancora più folle che costoro avrebbero potuto utilizzare quelle provviste. La porta era presidiata da sentinelle armate, e di tanto in tanto uno strano grido attraversava il cortile che separava la caserma dalla porta. Tra la folla allora alcune facce preoccupate si voltavano verso l'infermeria. I tre uomini guardavano questo spettacolo quando un buongiorno, nitido e asciutto alle loro spalle, li indusse a girarsi. Nonostante il caldo, Raúl era vestito in maniera impeccabile. Alto e ben piantato, portava un completo doppio petto scuro e un cappello con le tese rivoltate. Aveva il volto pallidissimo. Con gli occhi scuri e la bocca stretta, Raúl parlava in maniera rapida e precisa. Scendiamo verso il centro, disse. Tu, García, puoi andare. García si accese una sigaretta e lasciò che si allontanassero. Camminarono spediti, accordando il passo a quello di Raúl che si era messo tra loro due. García mi ha spiegato, disse. La cosa è fattibile, però le costerà diecimila franchi. Rambert rispose che accettava. Ci vediamo domani a pranzo al ristorante spagnolo della Marine. Rambert disse che andava bene e Raúl gli strinse la mano sorridendo per la prima volta. Dopo che se ne fu andato, Cottara si scusò. Non era libero l'indomani e comunque Rambert non aveva più bisogno di lui. Capitolo secondo, parte tredicesima. Quando il giorno seguente il giornalista entrò nel ristorante spagnolo, tutte le teste si voltarono al suo passaggio. Quello scantinato ombroso, situato sotto il livello stradale in una viuzza gialla riarsa dal sole, era frequentato solo da uomini per lo più di origine spagnola. Ma appena Raúl, seduto a un tavolo in fondo, ebbe fatto un cenno al giornalista e Rambert si fu diretto verso di lui, la curiosità svanì e tutti i volti tornarono ai loro piatti. Al tavolo di Raúl sedeva anche un tizio alto, magro e mal rasato, con le spalle smisuratamente larghe, la faccia cavallina e i capelli radi. Le lunghe braccia sottili, coperte di peli neri, uscivano da una camicia con le maniche rimboccate. Scosse tre volte il capo quando gli fu presentato Rambert. Il suo nome non era stato fatto e Raúl parlava di lui dicendo soltanto il nostro amico. Il nostro amico pensa di poterla aiutare. La metterà... Raúl si interruppe perché la cameriera era venuta a prendere l'ordinazione di Rambert. La metterà in contatto con due amici che le presenteranno delle guardie che ci danno una mano, ma non sarà ancora finita. Poi saranno le guardie a dire quando sarà il momento buono. La cosa più semplice sarebbe che lei stesse per qualche notte a casa di uno di loro, che abita vicino alle porte. Ma prima il nostro amico deve darle i contatti necessari. Quando tutto sarà pronto, pagherà lui il dovuto. L'amico scosse di nuovo la testa cavallina, continuando a masticare l'insalata di pomodori e peperoni che si ficcava in bocca. Poi parlò con un lieve accento spagnolo. Proponeva a Rambert di rivedersi di lì a due giorni, alle otto del mattino sul sagrato della cattedrale. Ancora due giorni, osservò Rambert. Perché non è semplice, disse Raúl. Bisogna rintracciare le persone. Il cavallo scrollò di nuovo la testa e Rambert annui senza troppo entusiasmo. Il resto del pranzo trascorse alla ricerca di un argomento di conversazione. Ma tutto divenne facile quando Rambert scoprì che il cavallo era un calciatore. Anche lui aveva praticato a lungo quello sport. Così parlarono del campionato francese, del valore delle squadre professionistiche inglesi e del modulo a W. Alla fine del pranzo il cavallo si era ormai animato e dava del tout a Rambert per convincerlo che il ruolo più bello in una squadra è quello di centro mediano. Capisci, diceva, il centro mediano è quello che distribuisce il gioco ed è questo il calcio, proprio distribuire il gioco. Anche Rambert la pensava così, benché avesse sempre giocato da centravanti. La discussione fu interrotta soltanto da una radio che dopo aver sciorinato in sordina alcune melodie sentimentali annunciò che il giorno precedente la peste aveva fatto 137 vittime. Nessuno dei presenti reagì. L'uomo con la testa equina scosse le spalle e si pensò. Raúl e Rambert lo imitarono. Prima di andarsene il centro mediano strinse energicamente la mano a Rambert e disse, mi chiamo González. A Rambert quei due giorni parvero interminabili. Si ricò da Rie e gli raccontò in dettaglio i passi che stava compiendo. Poi accompagnò il dottore in una visita a domicilio. Lo salutò davanti alla porta di una casa dove lo attendeva un malato sospetto. Nel corridoio voci e tramestio di passi. Avvisavano la famiglia dell'arrivo del dottore. Spero che arrivi Tarou, mormorò Rie. Aveva l'aria stanca. L'epidemia va troppo in fretta, domandò Rambert. Rie disse che non si trattava di questo e che anche la curva statistica saliva più lentamente, ma i mezzi per combattere la peste erano insufficienti. Abbiamo carenza di materiale, disse. In qualunque esercito del mondo la carenza di materiale si compensa con gli uomini, ma noi siamo carenti anche di uomini. Sono venuti medici da fuori e anche personale sanitario. Sì, disse Rie, dieci medici e un centinaio di uomini. Sembrano tanti, ma per lo stato attuale della malattia sono appena sufficienti e saranno insufficienti se l'epidemia si estenderà. Rie prestò l'orecchio ai rumori provenienti dall'interno, poi sorrise a Rambert. Sì, disse, deve sbrigarsi ad andarsene. Sul volto di Rambert passò un'ombra. Sa, disse con voce sorda, non è per questo che voglio andarmene. Rie rispose che lo sapeva, ma Rambert continuava. Non credo di essere un vigliacco di solito, l'ho dimostrato, però ci sono pensieri che non riesco a sopportare. Il dottore lo guardò in faccia. La ritroverà, disse. Forse, ma non posso sopportare l'idea che sia una cosa lunga e che nel frattempo lei invecchierà. A trent'anni si comincia a invecchiare e bisogna accogliere ogni occasione. Non so se lei può capire. Rie mormorava che credeva di capire quando arrivò Tahou accalorato. Ho chiesto a Panlu di unirsi a noi. E allora, domandò il dottore, ci ha pensato e ha detto di sì. Mi fa piacere, disse il dottore. Sono contento di saperlo migliore della sua predica. Sono tutti così, disse Tahou. Basta soltanto offrirgliene l'occasione. Sorrise e fece una strizzata d'occhio a Rie. E sta a me nella vita a fornire occasioni. Scusate, disse Rambert, ma devo andare. Il giovedì, cinque minuti prima dell'appuntamento fissato per le otto, Rambert era davanti al portale della cattedrale. L'aria era ancora abbastanza fresca. In cielo correvano piccole nuvole bianche e tonde, che più tardi sarebbero state divorate di colpo dall'arrivo del caldo. Un vago odore di umido si levava ancora dalle aiuole, cheppure erano tutte secche. Da dietro le case, a est, il sole riscaldava soltanto l'elmo della Giovanna d'Arco, interamente dorata, che orna la piazza. Un orologio suonò otto rintocchi. Rambert fece qualche passo sotto il portico deserto. Gli giungeva, dall'interno, un vago salmodiare, insieme con vecchi odori di cantina e di incenso. D'improvviso i canti tacquero. Una decina di piccole forme nere uscirono dalla chiesa e si diressero trotterellando verso il centro. Rambert cominciò a spazientirsi. Altre forme nere salivano per la grande scalinata e si dirigevano verso il portico. Accese una sigaretta, poi pensò che forse in quel luogo non era cosa da farsi. Alle otto e quindici gli organi della cattedrale presero a suonare in sordina. Rambert entrò sotto la volta buia. Dopo qualche tempo, intravide nella navata le ombre nere che gli erano passate davanti. Erano tutte radunate in un angolo, davanti ad una specie di altare improvvisato, su cui era stato collocato un san rocco, eseguito in tutta fretta in una delle botteghe della città. Inginocchiatesi parevano essersi fatte ancora più piccole, confuse al grigiore come pezzi d'ombra rappresa, appena più dense, qua e là, della bruma nella quale fluttuavano. Sopra di loro gli organi facevano variazioni senza fine. Quando Rambert uscì, Gonzales scendeva già la scalinata e si dirigeva verso il centro. «Pensavo che te ne eri andato», disse al giornalista. «Era comprensibile». Spiegò che aveva aspettato gli amici cui aveva dato appuntamento non lontano da lì, alle otto meno dieci, ma gli aveva aspettati venti minuti, in vano. «Ci deve essere stato un intoppo, poco, ma sicuro. Con il lavoro che facciamo le cose sono sempre complicate». Propose un altro appuntamento per l'indomani alla stessa ora, davanti al monumento ai caduti. Rambert sospirò e spinse all'indietro il cappello. «Tranquillo», concluse Gonzales ridendo, «pensa un po' a quanti interventi, scambi e passaggi bisogna fare prima di andare in rete». «Certo», disse ancora Rambert, «ma la partita dura solo un'ora e mezza». Il monumento ai caduti di Orano si trova nell'unico punto da cui si può scorgere il mare, una specie di passeggiata che costeggia per un brevissimo tratto le scogliere a picco sul porto. Il giorno seguente, Rambert, giunto per primo all'appuntamento, leggeva con attenzione la lista dei morti in battaglia. Trascorso qualche minuto, due uomini si avvicinarono. Lo guardarono con aria indifferente, quindi andarono ad appoggiarsi al parapetto della passeggiata e parvero totalmente assorti nella contemplazione dei moli vuoti e deserti. Erano entrambi della stessa statura, vestiti entrambi con un paio di pantaloni azzurri e una maglietta a righe con le maniche corte. Il giornalista si allontanò un po', quindi si sedette su una panchina e poteva osservarli in tutta libertà. Si accorse allora che non dovevano avere più di vent'anni. In quel momento vide Gonzales che gli veniva incontro, scusandosi. «Ecco i nostri amici», disse, e lo condusse verso i due giovani che presentò come Marcel e Louis. Di faccia si assomigliavano molto e Rambert pensò che fossero fratelli. «Ecco», disse Gonzales, «ora che avete fatto amicizia bisogna che discutiamo della nostra faccenda». Allora Marcel, o Louis, disse che il loro turno di guardia cominciava di lì a due giorni, durava una settimana e che avrebbero dovuto individuare il giorno più adatto. Alla porta ovest erano di guardia in quattro e gli altri due erano militari di carriera, di coinvolgerli neanche a parlarne. Non ci si poteva fidare e poi comunque questo avrebbe aumentato le spese. Certe sere però i due colleghi andavano a trascorrere parte della notte nella sala sul retro di un locale che conoscevano. Allora Marcel, lui, proponeva a Rambert di andare a stare a casa loro, non lontano dalle porte e di aspettare che venissero a prenderlo. A quel punto il passaggio sarebbe stato facile, ma bisognava sbrigarsi perché negli ultimi tempi girava voce che volevano mettere doppi posti di guardia all'esterno della città. Rambert era d'accordo e offrì alcune delle sigarette che gli restavano. Quello dei due, che non aveva ancora parlato, domandò allora a Gonzales se si erano messi d'accordo per le spese e se era possibile avere un anticipo. No, disse Gonzales, non c'è bisogno, è un amico, sistemerà tutto al momento della partenza. Decisero di fissare un altro appuntamento. Gonzales propose una cena al ristorante spagnolo di lì a due giorni. Dal ristorante avrebbero potuto andare a casa delle guardie. «La prima notte», disse a Rambert, «ti terrò compagnia». L'indomani, risalendo in camera, Rambert incrociò Tarou sulle scale dell'albergo. «Sto andando d'Arie», gli disse questi. «Vuole venire?» «Ho sempre timore di disturbarlo», disse Rambert dopo un'esitazione. «Non credo, mi ha parlato molto di lei». Il giornalista rifletteva. «Senta», disse, «se dopo cena avete un momento, anche tardi, venite tutte e due al bar dell'albergo». «Dipende da lui e dalla peste», disse Tarou. Alle undici di sera, invece, Rie e Tarou entrarono nel bar piccolo e stretto. Una trentina di persone se ne stavano lì, gomito a gomito, e parlavano a voce alta. Giunti dal silenzio della città in preda alla peste, i due nuovi venuti si fermarono, un po' frastornati. Capirono meglio quella animazione quando videro che lì si servivano ancora alcolici. Rambert faceva loro cenno, appollaiato su uno sgabello ad un'estremità del bancone. Si sedettero ai suoi due lati, dopo che Tarou ebbe scostato con garbo un vicino molesto. «Non le fa paura l'alcol?» «No», disse Tarou, «tutt'altro». Rie sentì l'odore di erbe amare che veniva dal suo bicchiere. In quel frastuono era difficile parlare, ma Rambert sembrava soprattutto concentrato a bere. Il dottore non riusciva ancora a capire se era ubriaco. A uno dei tavoli del piccolo locale, un ufficiale di marina, seduto fra due donne, raccontava ad un interlocutore grasso e paonazzo di un'epidemia di tifo al Cairo. «Degli accampamenti avevano fatto», diceva, «degli accampamenti per gli indigeni, con tanto di tende per i malati e intorno un cordone di sentinelle pronte a sparare ai familiari che cercavano di far entrare di straforo qualche rimedio tradizionale. Era duro, ma era giusto». All'altro tavolo, occupato da giovani in abiti eleganti, la conversazione era incomprensibile e si perdeva nelle note di St. James Infirmary, riversate da un giradischi che suonava a tutto volume. «È contento?» disse Rieu, alzando la voce. «Ci siamo quasi», disse Rambert, «in settimana probabilmente». «Peccato», gridò Tarou. «Perché?» Tarou guardò via. «Oh», fece questi, Tarou dice così perché pensa che avrebbe potuto esserci utile qui, ma io lo capisco benissimo il suo desiderio di andarsene. Tarou offrì un altro giro. Rambert scese dallo sgabello e per la prima volta lo guardò in faccia. «In che cosa potrei esservi utile?» «Beh», disse Tarou allungando senza fretta la mano verso il bicchiere, «nelle nostre formazioni sanitarie». Rambert prese di nuovo la sua aria incaponita e pensosa e risalì sullo sgabello. «Non le ritiene utili queste formazioni?» disse Tarou dopo aver bevuto, guardando con attenzione Rambert. «Utilissime», disse il giornalista, e beve. Rie notò che gli tremava la mano. Pensò che, in effetti, sì, era completamente ubriaco. Capitolo secondo, parte quattordicesima. L'indomani, entrando per la seconda volta nel ristorante spagnolo, Rambert passò in mezzo a un gruppetto di uomini che avevano portato fuori le sedie e si godevano una serata verde e oro, in cui il caldo cominciava appena ad attenuarsi. Fumavano un tabacco dall'odore acre. Dentro il ristorante era pressoché deserto. Rambert andò a sedersi al tavolo in fondo, dove la prima volta si era visto con Gonzales. Disse alla cameriera che aspettava qualcuno. Erano le sette e mezza. Gli uomini, pian piano, rientrarono e si sedettero ai tavoli. Cominciarono a servirli e la sala da pranzo, dal soffitto basso, si riempì di rumori di stoviglie e del brusio delle conversazioni. Alle otto, Rambert aspettava ancora. Accesero le luci. Altri clienti si sedettero al suo tavolo. Ordinò la cena. Alle otto e mezza aveva finito senza aver visto né Gonzales né i due ragazzi. Fumò qualche sigaretta. La sala lentamente si svuotava. Fuori faceva buio molto in fretta. Un alito tiepido proveniente dal mare sollevava appena le tende delle porte finestre. Quando furono le nove, Rambert si rese conto che la sala era vuota e che la cameriera lo guardava con aria perplessa. Pagò e uscì. Di fronte al ristorante c'era un caffè aperto. Rambert si sedette al bancone e tenne d'occhio l'entrata del ristorante. Alle nove e mezza si diresse verso l'albergo, pensando vanamente a come rintracciare Gonzales, di cui non aveva l'indirizzo, con il cuore sgomento all'idea di dover ricominciare tutto da capo. In quel preciso istante, nella notte attraversata dalle corse delle ambulanze, si rese conto, avrebbe poi detto al dottor Rie, che in tutto quel tempo aveva come dimenticato la compagna, per concentrarsi nella ricerca di un varco nei muri che lo separavano da lei. Ma proprio in quel momento, quando una volta di più non vedeva vie di uscita, la ritrovò anche di nuovo al centro del proprio desiderio, e con un'esplosione di dolore talmente subitanea che prese a correre verso l'albergo, per sfuggire a quella vampa atroce che invece si portava dietro e che gli divorava le tempie. L'indomani di buon'ora andò tuttavia a trovare Rie per chiedergli come rintracciare Cotard. «Non mi resta che ricominciare da capo», disse. «Venga domani sera», disse Rie. «Tarù mi ha chiesto di invitare Cotard, non so perché. Deve venire alle dieci, lei venga alle dieci e mezza». Quando il giorno seguente Cotard arrivò a casa del dottore, Tarù e Rie parlavano di una guarigione inaspettata avvenuta nel reparto di quest'ultimo. «Uno su dieci, è stato fortunato», diceva Tarù. «Ah beh», disse Cotard, «non sarà stata la peste». Gli assicurarono che si trattava proprio della peste. «Non è possibile, visto che è guarito. Lo sapete meglio di me, la peste non perdona». «In genere no», disse Rie. «Ma dai e ridai, qualche sorpresa arriva». Cotard rideva. «Non si direbbe, ha sentito i dati stasera». Tarù, che guardava il Laurentier con sguardo benevolo, disse che conosceva i dati, che la situazione era grave, ma questo cosa dimostrava. Dimostrava solo che ci volevano misure ancora più eccezionali. «Beh, le avete già prese». «Sì, ma ciascuno deve anche fare la sua parte». Cotard guardava Tarù senza capire. Questi disse che troppi uomini rimanevano inattivi, che l'epidemia riguardava tutti e che ognuno doveva fare il proprio dovere. Le formazioni volontari erano aperte a tutti. «È un'idea», disse Cotard, «ma non servirà a niente. La peste è troppo forte». «Lo sapremo solo dopo che avremo tentato tutto», disse Tarù in tono paziente. Rie, nel frattempo, ricopiava alcune schede seduto alla scrivania. Tarù continuava a guardare il Laurentier che si agitava sulla sedia. «Che cosa ne direbbe di unirsi a noi, signor Cotard?» L'altro si alzò con aria offesa e prese la sua bombetta. «Non è il mio mestiere». «Quindi, in tono di sfida, e poi comunque io nella peste mi ci trovo bene e non vedo perché dovrei prendermi la briga di farla finire». Tarù si batté la fronte come se avesse un'improvvisa rivelazione. «Ah, è vero, dimenticavo, altrimenti l'arresterebbero». Cotard trasalì e si abbrancò alla sedia come se stesse per cadere. Rie aveva smesso di scrivere e lo guardava con espressione seria e interessata. «Chi gliel'ha detto?» gridò il Laurentier. Tarù parve sorpreso e disse «Ma lei, o perlomeno è quel che il dottore e io abbiamo creduto di capire». E poiché Cotard, di colpo in preda ad una rabbia troppo forte per lui, farfugliava parole e incomprensibili. «Non si agiti», aggiunse Tarù. «Non saremo certo il dottore o io a denunciarla. La sua storia non è affar nostro. E poi la polizia non ci è mai andata granché a Genio. Su, si segga». Il Laurentier guardò la sedia e dopo un istante di esitazione si sedette. Passato un momento sospirò. «È una vecchia storia», ammise, «che adesso hanno tirato fuori. Pensavo fosse acqua passata e invece un tale ha parlato. Mi hanno mandato a chiamare e mi hanno detto di tenermi a disposizione fino alla fine delle indagini. Ho capito che rischio di essere arrestato». «È qualcosa di grave?» domandò Tarù. «Dipende da cosa intende per grave. Comunque sia non è un omicidio. Prigione o lavori forzati?» Cotard sembrava molto abbattuto. «Prigione, se mi va bene». Ma dopo un momento riprese, con foga, «è stato uno sbaglio. Tutti ne fanno di sbagli. Ma non posso sopportare l'idea che per questo sarò preso e portato via, allontanato da casa, dalle mie abitudini, da tutti quelli che conosco». «Ah», domandò Tarù, «per questo ha fatto tutta quella scena di impiccarsi». «Sì, certo, una stupidaggine». Rie parlò per la prima volta e disse a Cotard che capiva la sua preoccupazione, ma che magari tutto si sarebbe sistemato. «Oh, per ora so che non ho niente da temere». «Deduco», disse Tarù, «che non entrerà nelle nostre formazioni». L'altro si rigirava il cappello fra le mani e levò verso Tarù uno sguardo esitante. «Non vogliatemene». «Certo che no, ma perlomeno», disse Tarù sorridendo, «cerchi di non diffondere intenzionalmente il microbo». Cotard protestò che non l'aveva voluta lui la peste, che era arrivata da sé e che non era colpa sua se in questo momento gli tornava comoda. E quando Rambert arrivò alla porta, il rentier aggiungeva, in tono molto energico, «e comunque la mia idea è che non otterrete niente». Rambert scoprì che Cotard non conosceva l'indirizzo di Gonzales, ma che si poteva sempre tornare in quel caffè. Stabilirono di andarvi l'indomani. E poiché Rie espresse il desiderio di essere tenuto e informato, Rambert lo invitò a venire con Tarù a trovarlo in albergo nel fine settimana, a qualsiasi ora della notte. Al mattino, Cotard e Rambert si recarono al piccolo caffè e lasciarono detto a Garzia di vedersi quella sera o l'indomani in caso di intralcio. La sera lo aspettarono in vano. L'indomani Garzia era lì. Ascoltò in silenzio la storia di Rambert. Non era al corrente, ma sapeva che interi quartieri erano stati isolati per 24 ore, onde procedere a certi controlli domiciliari. Era possibile che Gonzales e i due ragazzi non fossero riusciti a passare i posti di controllo, ma tutto quello che poteva fare era metterli di nuovo in contatto con Raul. Ovviamente sarebbe stato solo di lì a due giorni. «Capisco», disse Rambert, «bisogna ricominciare tutto da capo». Due giorni dopo, a un angolo di strada, Raul confermò l'ipotesi di Garzia. Avevano chiuso i quartieri della città bassa. Bisognava ricontattare Gonzales. Passati due giorni, Rambert pranzava con il calciatore. «Che assurdità», diceva. «Dovevamo stabilire un modo per ritrovarci», la pensava così anche Rambert. «Domattina andiamo dai ragazzi e vediamo di organizzare bene le cose». Il giorno dopo, i ragazzi non erano in casa. Lasciarono detto di vedersi l'indomani a mezzogiorno, in Place du Lycée, e Rambert se ne tornò indietro con un'espressione che colpì Tarou quando nel pomeriggio lo incontrò. «Non va, eh?» gli domandò Tarou. «Non ne posso più di ricominciare», disse Rambert. E rinnovò l'invito. «Venite stasera». Quando la sera i due uomini entrarono nella sua stanza, Rambert era steso sul letto. Si alzò e riempì alcuni bicchieri che aveva preparato. Nel prendere il suo, Rie gli domandò se c'era stato qualche passo avanti. Il giornalista disse che aveva rifatto tutta la altra fila, che era arrivato allo stesso punto e che presto avrebbe avuto l'ultimo appuntamento. Bevette e aggiunse «e naturalmente non verranno». «Non deve farne una regola», disse Tarou. «Non ha ancora capito», rispose Rambert alzando le spalle. «Che cosa? La peste». «Ah», fece Rie. «No, non ha capito che la peste è un continuo ricominciare». Rambert andò in un angolo della stanza e aprì un piccolo fonografo. «Che disco è?», domandò Tarou. «Lo conosco». Rambert rispose che era St. James Infirmary. Nel bel mezzo del disco si udirono due spari in lontananza. «Un cane o un'evasione?», disse Tarou. Un attimo dopo il disco finì e si sentì la sirena di un'ambulanza, che crebbe, passò sotto le finestre della camera d'albergo, calò e infine si spense. «Questo disco è deprimente», disse Rambert, «e poi oggi è la decima volta che lo ascolto. Le piace così tanto? No, ma è l'unico che ho». «E dopo un momento ve l'ho detto. La peste è un continuo ricominciare». Domandò a Rie come andavano le formazioni. C'erano cinque squadre operative e speravano di crearne altre. Il giornalista si era seduto sul letto e pareva concentrato sulle proprie unghie. Rie osservava la sua figura tarchiata e forte, curva sul bordo del letto. A un tratto si accorse che Rambert lo guardava. «Sa, dottore», disse, «ho pensato molto alla sua organizzazione. Se non sono con voi è perché ho le mie ragioni. Altrimenti credo che il mio contributo lo saprei dare. Ho combattuto nella guerra di Spagna». «Da che parte?», domandò Tarou. «Dalla parte dei vinti». Ma da allora ho un po' riflettuto. «Su cosa?», fece Tarou. «Sul coraggio». «Adesso so che l'uomo è capace di grandi azioni, ma se non è capace di un grande sentimento non mi interessa». «A quanto pare l'uomo è capace di tutto», disse Tarou. «Ma no, è incapace di soffrire o di essere felice a lungo, quindi non è capace di niente che valga». Li guardava e poi, per esempio, lei, Tarou, è capace di morire per un amore. Non lo so, ma ora come ora direi di no. Ecco, però si vede subito che è capace di morire per un'idea. Beh, io ne ho abbastanza della gente che muore per un'idea. Non credo nell'eroismo. So che è fin troppo facile e ho scoperto che uccide. A me interessa che gli uomini vivano e muoiano per ciò che amano». Rie aveva ascoltato con attenzione il giornalista. Senza smettere di guardarlo, disse dolcemente «L'uomo non è un'idea, Rambert». L'altro balzava su dal letto, il volto acceso. «Sì che è un'idea. È un'idea angusta quando l'uomo si allontana dall'amore. E infatti noi non siamo più capaci di amore. Rassegniamoci, dottore. Aspettiamo di diventarne capaci. E se non è possibile, aspettiamo la liberazione generale senza giocare agli eroi. Io, per quel che mi riguarda, non vado oltre». Rie si alzò, con l'aria improvvisamente stanca. «Fa bene, Rambert, fa benissimo. E per nulla al mondo vorrei distoglierla dal suo progetto, che mi sembra buono e giusto. Però devo dirle una cosa. Qui non si tratta di eroismo. Si tratta di onestà. Farà magari ridere come idea, ma il solo modo di lottare contro la peste è l'onestà». «Che cos'è l'onestà?» disse Rambert con aria ad un tratto seria. «Non so cosa sia in generale, ma nel mio caso so che consiste nel fare il mio lavoro». «Ah», disse Rambert pieno di rabbia. «Io non so quale sia il mio lavoro, e infatti forse sono colpevole a scegliere l'amore». Rie lo prese di petto. «No», disse con forza, «lei non è colpevole». Rambert li guardava pensieroso. «Voi due immagino che non abbiate niente da perdere. Allora è più facile stare dalla parte giusta». Rie vuotò il bicchiere. «Andiamo», disse, «abbiamo da fare». Uscì. Tarou lo seguì, ma al momento di uscire parve ripensarci. Si voltò verso il giornalista e gli disse «Lo sa che la moglie di Rie è in una casa di cura a qualche centinaio di chilometri da qui». Rambert ebbe un gesto di sorpresa, ma Tarou se n'era già andato. L'indomani di prima mattina Rambert telefonava al dottore. «Accetterebbe che lavorassi con voi finché non ho trovato il modo di lasciare la città». Ci fu un momento di silenzio all'altro capo del filo e poi «Sì, Rambert, la ringrazio».